alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'arte della conversazione di benedetta craveli letture di luca zingaretti vorrei raccontarvi la storia di un'arte del vivere fiorito in francia agli inizi del seicento e destinato a raggiungere il massimo del suo splendore nel settecento un'arte del vivere che si sarebbe presto colorata di leggenda e che contraponeva alla logica della forza e alla brutalità degli istinti un ideale di socievolezza all'insegna dell'amabilità e della cortesia per due secoli la nobiltà francese si sarebbe misurata con questo ideale che l'avrebbe imposta ancora una volta all'ammirazione di tutta la nazione e di lì a poco all'ammirazione dell'intera Europa quest'arte del vivere non era fiorita a corte come era avvenuto durante il rinascimento per le corti italiane ma era fiorita al di fuori della corte o piuttosto in opposizione a quella che era diventata la corte di Francia sotto alla nuova dinastia dei Borbone due le ragioni storiche di questo fenomeno la prima era che le élite aristocratiche sentivano la necessità di porre fine al clima di violenza che aveva così a lungo sconvolto il paese durante le guerre di religione e decideva di sublimare l'aggressività in cortesia dandosi delle nuove regole di comportamento così facendo scopriva che gareggiare in eleganza era più divertente che ammazzarsi agli angoli delle strade la seconda ragione era che la nobiltà scopriva di avere sempre meno potere politico e militare all'interno della nuova monarchia centralizzata voluta da Luigi XIII e da Richelieu una monarchia che si avviava rapidamente a diventare assoluta confrontata a una grave crisi d'identità la nobiltà francese era costretta a ripensarsi e a ridefinirsi e sceglieva di farlo attraverso lo stile da quel momento in avanti sarebbe stato il suo modo di vivere di atteggiarsi, di divertirsi, di stare insieme a conferire alla nobiltà la certezza della propria superiorità sarebbero state soprattutto le bienseance vale a dire le regole delle buone maniere quel corpo di leggi non scritte ma più potenti di qualsiasi legge a fornire alla nobiltà il banco di prova una volta riservato alle armi la leggenda vuole che quest'arte del vivere sia fiorito a casa di Madame de Rambouillet giovanissima la marchesa aveva lasciato la corte non aveva più frequentato i ricevimenti del Louvre e si era ritirata nella sfera privata e aveva incominciato a ricevere a casa sua un gruppo di amici e presto i suoi ricevimenti avrebbero assunto l'evidenza di un simbolo della nuova sacevolezza ma non tutti potevano avere accesso in casa della marchesa per esservi accolti dovevano deporre l'aggressività e purare il linguaggio stemperare l'eros in una galanteria generica questo modello del vivere si imponeva immediatamente all'immaginazione dei contemporanei della marchesa e lei scrive un autore del tempo che ha corretto i cattivi costumi e Madame de Rambouillet che ha insegnato la cortesia a tutti quelli che l'hanno frequentata ed è in effetti all'hotel de Rambouillet che questa cortesia si imponeva con la forza di un ideale e inoltre la marchesa di Rambouillet a avere creato lo scenario architipico che avrebbe fatto da sfondo alla sacevolezza francese per i due secoli successivi ma sentiamo la testimonianza di Talémont de Réau un contemporaneo della marchesa generalmente assai malevolo ma che fa qui omaggio a Madame de Rambouillet di un ritratto senza ombre Madame de Rambouillet era figlia del marchese Pisani e di una Savelli una dama di un'illustre famiglia romana che ebbe cura di farle imparare l'italiano non meno bene del francese i suoi genitori la fecero sposare quando aveva 12 anni al marchese di Rambouillet la marchesa mi ha confidato che suo marito che aveva il doppio della sua età le appariva come un adulto mentre lei si sentiva ancora una bambina e questa impressione non l'ha mai abbandonata aumentando il rispetto che provava per lui e mai uomo si è mostrato più attento ai desideri della moglie Madame de Rambouillet mi ha anche detto che suo marito era sempre stato innamorato di lei e che non pensava che si potesse essere più intelligenti di lei in realtà non gli era difficile accontentarla perché era la ragionevolezza fatta persona eppure ella giura che se l'avessero lasciata libera di decidere non si sarebbe sposata e sarebbe rimasta ragazza ritengo la cosa assolutamente possibile perché a 20 anni non volle più andare ai ricevimenti del Louvre non è che non amasse divertimenti ma in privato cosa assai strana per una donna giovane e bella e di così alto rango ha sempre amato le cose belle si apprestava a imparare il latino per poter leggere Virgilio quando una malattia glielo impedì e così ha dovuto accontentarsi dell'italiano e dello spagnolo è una persona abile in tutto è stata lei stessa l'architetto dell'hotel de Rambouillet una sera scontenta di tutti i progetti che le venivano sottoposti dopo averci riflettuto a lungo si mise a gridare presto, della carta ho trovato il modo di fare quello che volevo e lì per lì ne fece il disegno perché naturalmente sapeva disegnare e tale disegno venne seguito punto per punto è lei che ha insegnato a mettere la scala da un lato così da avere una grande infilata di stanze ad alzare i soffitti e a fare delle finestre larghe e alte e disposte simmeticamente le una di fronte alle altre e ciò è vero al punto che quando Maria de' Medici fece costruire il Luxembourg ordinò agli architetti di andare a vedere l'hotel de Rambouillet da che si trassero giovamento è lei che per prima ha avuto l'idea di dipingere una stanza di un colore diverso dal rosso o dal cuoio e per questo alla sua grande sala è stato attribuito il nome di Camera Azzurra erano invece ragioni di salute quelle che avevano indotto Madame de Rambouillet a fare della camera da letto un luogo di ricevimento la Marchesa soffriva di strani disturbi non sopportava la luce del sole nel fuoco del camino e aveva fatto trasportare in uno dei salotti un letto a baldacchino e li riceveva gli amici il luogo dove erano deposte le poltrone e gli sgabelli per gli ospiti era nello spazio compreso fra il letto e il muro una sorta di corridoio che si chiamava all'epoca Ruel e per metonimia la Ruel diventava nel Seicento il luogo per eccellenza dove ricevere la parola salotto è un termine molto più tardo entra in uso soltanto nell'Ottocento dobbiamo a una grande romanziera dell'epoca a Mamosel de Scuderie la testimonianza della meraviglia che coglieva i visitatori entrando nella casa della Marchesa ascoltiamo Mamosel de Scuderie ha scoperto l'arte di far sorgere su un terreno di dimensioni modeste un ampio palazzo l'ordine l'armonia e la pulizia contraddistinguono tanto gli ambienti quanto l'arredamento nella sua casa tutto è magnifico tutto è speciale le lampade sono diverse da quelle che si vedono altrove le stanze sono piene di mille rarità che attestano la competenza di colei che le ha scelte l'aria è sempre profumata molti cestini magnifici pieni di fiori creano nella sua casa un'eterna primavera e il luogo in cui la si vede di solito è così piacevole così ben ideato che si ha l'impressione quando li si è accanto di essere sotto l'effetto di un incantesimo è mademoiselle la cugina di luigi quattordicesimo detta la grande mademoiselle che ricorda madame de rambouillet nella penombra della sua stanza circondata da quadri oggetti libri fiori che mostrano come l'arredamento e il gusto per l'arte connotino fin dall'inizio la società mondana mi pare di vederla in una rientranza della parete dove il sole non riesce a penetrare e da dove la luce non è interamente bandita questa specie di grotta è circondata da grandi vasi di cristallo pieni dei più bei fiori della primavera sempre presente nei suoi giardini intorno a lei vi sono numerosi ritratti di tutte le persone che ama gli sguardi che la posa su di loro sono come altrettante benedizioni per gli originali vi sono anche molti libri su alcune mensole che si trovano in quella stanza è facile capire che non trattano di argomenti comuni in questo luogo non si entra se non in due o tre alla volta perché non ama la confusione tuttavia il tono dominante dell'hotel de Rambouillet era quello del divertimento questo bisogno di leggerezza e di riso caratterizza in realtà tutta una società è un'esigenza che fa da antidoto a un senso tragico della vita che caratterizza la cultura francese del seicento un sentimento tragico che dipende innanzitutto dalla precarietà della esistenza si muore spesso giovanissimi gli uomini affrontano un destino costellato di guerre di duelli le donne muoiono di parto epidemie e malattie non sono contrastati da una medicina ancora molto rudimentale ma a questo sentimento di precarietà della vita si sposa un sentimento tragico della religione l'uomo del seicento vive nell'angoscia del peccato della morte dominato dal terrore della dannazione proprio per questo Pascal condannava il divertissement condannava lo svago mondano perché era capace di distrarre l'uomo dal sentimento della propria miseria sappiamo che madame de rambouillet aveva una religiosità profonda soffriva di una costante paura della morte proprio per questo il riso per lei aveva una funzione terapeutica e la marchesa aveva cura di costellare la sua esistenza di svaghi divertimenti colpi di scena e quello che ci racconta ora tale modo reau è davvero un vero cuduteatro una sera in cui l'hotel de rambouillet era pieno di ospiti all'improvviso si sente del rumore dietro a una tappezzeria si apre una porta ed ecco apparire mademoiselle de rambouillet splendidamente vestita sullo sfondo di un ampio magnifico studiolo meravigliosamente illuminato vi lascio immaginare la sorpresa della gente tutti sapevano che dietro la parete vi era il giardino e senza averne mai avuto il minimo sospetto vedevano ora uno studiolo così bello così ben dipinto e grande quasi come una camera che pareva portato lì da un incantesimo tra le fonti di svago della società mondana accanto alla musica alla danza al teatro alla conversazione vi era naturalmente anche la letteratura non bisogna dimenticare che il salotto mondano era composto da tre elementi dai gentiluomini dalle gentil donne e dai letterati la presenza dei letterati serviva a introdurre un elemento artistico di svago di divertimento supplementare e all'hotel de Rambouillet il letterato per eccellenza sarebbe stato Vincent Voiture sarebbe stato lui a dedicarsi anima e corpo ai divertimenti della camera azzurra un episodio raccontatoci da Talemande Reau ce lo mostra vittima di uno scherzo che denota l'alto grado di familiarità dei frequentatori dell'hotel con la poesia e con le tecniche di improvvisazione Madame de Rambouillet riuscì a trarlo in inganno Watteur aveva scritto un sonetto di cui era abbastanza soddisfatto lo diede a Madame de Rambouillet che lo fece stampare avendo cura di provvedere alla numerazione delle pagine e a tutto il resto e poi lo fece cucire con molta perizia in una raccolta di versi pubblicata da tempo Watteur trovò il libro che era stato lasciato di proposito aperto in quel punto lesse varie volte il sonetto recitò il suo tra sé e sé per vedere se vi fossero delle differenze a lungo andare gli si confusero le idee al punto che credette di averlo letto in passato e di averlo non già composto ma semplicemente ricordato alla fine quando ne ebbero riso abbastanza gli svelarono l'inganno la prima ragione del successo di Watteur va cercata nella capacità dello scrittore di porgere all'hotel de Rambouillet uno specchio incantatore in cui rimirare la propria immagine sublimata in versi e in prosa egli avrebbe raccontato la cronaca idealizzata dell'hotel facendo entrare la vita mondana nell'alveo della letteratura e conferendole uno statuto artistico destinato a fungere da esempio la lettera che stiamo per ascoltare è una lettera di Watteur scritta intorno al 1630 che racconta una gita in campagna in pieno stile Rambouillet è una gita al castello di Madame de Vigeon una delle amiche della Marchesa e la festa che ci verrà descritta è offerta alla principessa di Condé vale a dire a una delle prime dame di Francia la prosa euforica di Watteur ci trasporta in un'altrove in un'arcadia giocosa sospesa fra realtà e sonno come sapete Monsignore Madame la Française Mademoiselle de Bourbon Madame de Vigeon Madame Dobry Mademoiselle de Rambouillet Mademoiselle Polet Monsieur de Chaudetbon ed io partimo da Parigi verso le sei di sera per recarci alla bar dove Madame de Vigeon doveva offrire un rinfresco a Madame la Française entrammo in una sala dove si camminava su un tappeto di rose e di fiori d'arancio Madame la Française dopo aver ammirato questa magnificenza volle andare a passeggiare nel parco in attesa dell'ora di cena in fondo a un grande viale che si estendeva a perdita d'occhio trovammo una fontana che gettava da sola più acqua di tutte quelle di Tivoli disposti in cerchio attorno ad essa vi erano 24 suonatori di violino che sormontavano a fatica il rumore che l'acqua faceva cadendo quando giungevo più vicino scoprimmo in una nicchia intagliata in una palizzata una Diana dell'età di 11 o 12 anni più bella di quanto l'avessero mai vista le foreste della Grecia e della Tessania accanto in un'altra nicchia vi era una delle sue ninfe bella e gentile quanto bisogna per far parte del suo corteo coloro che non credevano nelle favole credettero che fosse Mademoiselle du Bourbon e la fanciulla Priande tutti racevano attoniti davanti a tante cose mirabili che colpivano ugualmente la vista e l'udito quando all'improvviso la dea saltò giù dalla sua nicchia e con una grazia indescrivibile iniziò a ballare intorno alla fontana e questo spettacolo si sarebbe ancora protratto se i violinisti non avessero presto suonato una sarabanda così allegra che tutti si alzarono gioiosamente così saltando danzando volteggiando piroettando facendo capriole arrivamo alla casa dove trovammo una tavola che sembrava essere stata apprestata per le fate uscendo da tavola il suono dei violini fece salire tutti al piano di sopra e lì trovammo una stanza così ben illuminata da far credere che il giorno avendo preso cognato dalla terra vi si fosse ritirato tutto intero mentre ancora fervevano le danze ecco improvvisamente un grande rumore proveniente dall'esterno costringere tutte le dame ad affacciarsi alla finestra si vide allora una tale quantità di fuochi d'artificio uscire da un grande bosco a 300 passi dalla casa che pareva che tutti i rami e i tronchi degli alberi si fossero trasformati in razzi parleremo questa sera di Vincent Voiture lo scrittore che più di ogni altro ha saputo farsi interprete delle aspirazioni della nuova società mondana che nasce in Francia agli inizi del seicento e di cui stiamo raccontando la storia Vincent Voiture è certamente lo scrittore che si dimostra capace di trasformare l'ozio mondano in rappresentazione artistica nato a Parigi nel 1598 in una famiglia di commercianti e dotato di un'ottima educazione umanistica Vincent Voiture si faceva notare per il suo brio per la sua intelligenza e questa fama di spirito lo faceva invitare all'hotel de Rambouillet per lui l'ingresso nel salotto della Marchesa era una sorta di iniziazione una sorta di elevazione sociale anno dopo anno Voiture si sarebbe dedicato a intrattenere a divertire a far ridere il piccolo gruppo di aristocratici che lo avevano accolto fra di loro si preoccupava di divertire i frequentatori dell'hotel de Rambouillet aveva sempre visto cose che gli altri non avevano visto e non appena arrivava tutti gli si facevano attorno per ascoltarlo nelle feste che si tenevano all'hotel de Rambouillet e all'hotel de Condé Voiture divertiva sempre la gente ora con dei versi ora con qualche follia che gli veniva in mente uno dei grandi intrattenimenti della camera azzurra era naturalmente l'amore Voiture avrebbe passato in rassegna in prosa e in versi tutti i luoghi comuni della letteratura amorosa la donna rimaneva al centro della scena veniva adulata ammirata corteggiata ma perdeva la sacralità tipica della mistica petrarchesca l'amore sotto la penna di Voiture diventava gioco e il passo della lettera che ascolteremo mostra come Voiture fosse capace di trasformare un luogo comune abusato della tradizione amorosa il classico morire d'amore in scherzo ma al tempo stesso di comunicare al lettore un senso di profonda partecipazione potete essere certa che la tristezza e l'amore non faranno mai morire persona veruna visto che nell'una nell'altra mi hanno ancora ucciso e sia puro e privato per ben due giorni dell'onore di vedervi mi rimane qualche apparenza di vita se qualcosa poteva decidermi ad allontanarmi da voi essa era la certezza che avrei finito per morirne e che un dolore così forte non mi avrebbe lasciato languire a lungo eppure debbo constatare contro ogni speranza che resisto molto più di quanto pensassi e credo che nonostante la ferita mortale la mia anima non possa staccarsi dal mio cuore perché vi contempla la vostra immagine era soprattutto nelle lettere in prosa che Voiture avrebbe dato il meglio di sé con lui prendeva l'avvio un nuovo stile epistolare destinato a fare scuola indirizzate ai frequentatori dell'hotel le sue lettere sapevano interpretarne i gusti e gli interessi ed erano spesso delle lettere aperte destinate non solo alla persona a cui erano indirizzate ma destinata a essere lette e passare di mano in mano quella che leggiamo ora è una lettera destinata alla marchesa a sua figlia julie e a mademoiselle polè una delle frequentatrici dell'hotel famosissima per la sua bellezza e per la sua voce è indirizzata a una bambina di undici anni ma mademoiselle de bourbon a letto ammalata Voiture è stato incaricato dalle dame della camera azzurra di intrattenerla non era riuscito a strappare un sorriso alla bambina e quindi era stato condannato per punizione a essere fatto saltare su una coperta tesa con un brio indiavolato giocando sulla piccolezza della sua statura lo scrittore trasforma questo scherzo goliardico in una sorta di viaggio nella fantasia signorina venerdì pomeriggio mi hanno fatto rimbalzare in aria su una coperta perché non ero riuscito a farvi ridere entro il tempo accordatomi a questo scopo madame de rambouillet ne ha decretato la sentenza su richiesta della signorina sua figlia e della signorina polè ebbe un bel gridare e difendermi portarono la coperta e quattro degli uomini più forti del mondo furono scelti per la bisogna ciò che posso dire signorina è che nessuno arrivò mai in alto come me e non credevo che la fortuna dovesse mai tanto innalzarmi ad ogni colpo mi perdevano di vista e mi lanciavano più in alto di quello che possono salire le aquile vidi le montagne abbassate al di sotto di me vidi i venti e le nubi camminarmi sotto i piedi scoprì dei paesi che non avevo mai visto e dei mari che non avevo mai immaginato non c'è niente di più divertente che vedere tante cose assieme e scoprire con un solo colpo d'occhio la metà della terra ma vi assicuro signorina che non si guarda tutto ciò senza inquietudine quando ci si trova nell'aria e ci manca la certezza di ritornare a terra una delle cose che più mi spaventavano era il fatto che quando mi trovavo molto in alto e guardavo in basso la coperta mi pareva così piccola che mi sembrava impossibile ricaderci sopra e vi confesso che questo mi dava una certa emozione accade un incidente strano che sembrerà incredibile a chi non l'ha visto una delle volte in cui mi avevano lanciato più in alto scendendo mi ritrovai in una nube assai spessa e essendo io estremamente leggero vi rimasi a lungo impigliato senza ricadere di modo che quelli che stavano sotto rimasero a lungo con la coperta tesa guardando in alto senza poter immaginare cosa mi fosse successo per fortuna non vi era traccia di vento perché se ci fosse stato la nube spostandosi mi avrebbe portato con sé e io avrei finito per precipitare al suolo cosa che non poteva accadere senza che mi facessi molto male ma sopraggiunse un incidente ancora più pericoloso l'ultima volta che mi lanciarono in aria mi trovai in un branco di gru che da prima si stupirono di vedermi a quell'altezza ma quando furono più vicine mi presero per uno di quei pigmei con cui come sapete bene signorina sono da sempre in guerra e pensarono che fossi venuto a spiarle anche nella regione dell'aria subito mi si scagliarono addosso a gran colpi di becco con una violenza tale che credete di essere trapassato da cento colpi di pugnale e una di loro non mi lasciò fin quando ricaddi sulla coperta ciò dissuase i miei aguzzini dal mettermi nuovamente alla merced delle mie nemiche che si erano ammassate in gran quantità e si tenevano sospese nell'aria nell'attesa che vi venissi rispedito mi riportarono a casa in quella stessa coperta in uno stato di totale prostrazione in verità bisognerebbe anche dire che si tratta di un esercizio un po' troppo violento per un uomo debole come me potete dunque giudicare signorina quanto questa azione sia tirannica e quante siano le ragioni che ve la debbano far disapprovare e senza mentire perché siete nata con tante qualità per comandare è bene che vi abituate di buon'ora a odiare l'ingiustizia e a prendere sotto la vostra protezione gli oppressi vi supplico dunque signorina di dichiarare in primo luogo questa impresa un'aggressione che disconoscete e di ordinare al fine di risarcire il mio onore e farmi recuperare le forze che si costruisca un grande padiglione di organza nella camera azzurra dell'hotel de Rambouillet lì sarò servito e trattato magnificamente per due giorni interi dalle due signorine che sono state la causa della mia disgrazia ai due angoli della stanza si cuoceranno tutto il tempo delle marmellate e una delle due signorine soffierà sul fornello e l'altra si applicherà a versare dello sciroppo su dei piatti per farlo raffreddare e a portarmelo di tanto in tanto così signorina farete un atto di giustizia degno di una grande bella principessa quale siete ed io sarò obbligato a dichiararmi con più rispetto e verità di chiunque altro al mondo signorina vostro eccetera 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 ma come adulare una donna e poi un'altra e poi un'altra ancora riuscendo a mantenere un filo di credibilità questo problema si faceva ancora più arduo nel caso della figlia primogenita di madame de Rambouillet la celebre Julie forse la fanciulla più lodata e più adulata di Francia Julie era il capolavoro pedagogico di sua madre e non faceva mistero di una ammirazione sconfinata per il re di Svezia Gustavo Adolfo alleato della Francia nella lotta contro la Spagna su questo tema sulla ammirazione che Julie portava al re di Svezia si erano esercitati parecchi letterati frequentatori dell'hotel ma arrivato a buon ultimo Voiture dimostrava di sapere fare di meglio una mattina era giunta all'hotel de Rambouillet una carrozza con un seguito di gentiluomini vestiti alla svedese essi recavano un ritratto del re di Svezia e una lettera del sovrano destinata a Julie per un attimo gli abituati dell'hotel erano stati attraversati dal dubbio che davvero la fama di Monselle de Rambouillet fosse giunta fino alla lontana Svezia ma era stato sufficiente leggere le prime righe della lettera per capire che a scriverla non poteva essere stato che Voiture Signorina ecco il Leone del Nord quel conquistatore il cui nome ha suscitato tanto clamore nel mondo che viene a deporre ai vostri piedi i trofei della Germania e dopo aver sconfitto Tigli e aver avuto ragione della grandezza spagnola e delle forze dell'impero viene a sottomettersi al vostro tra le grida di gioia e i canti di vittoria che sento echeggiare da tanti giorni non ho udito niente di più gradevole della relazione in cui mi si dice che mi volete bene da quando l'ho saputo ho cambiato tutti i miei progetti e concentrato in voi sola quell'ambizione che abbracciava tutta la terra ciò non significa tanto aver ridotto i miei disegni quanto averli innalzati perché anche la terra ha i suoi limiti e il desiderio di conquistarne il dominio non ha infiammato solo il mio animo ma questo vostro spirito che suscita tanta ammirazione e che non si può né misurare né capire questo cuore che è molto al di sopra degli scettri e delle corone e queste grazie che vi fanno regnare su tutti i voleri sono beni infiniti a cui nessuno al di fuori di me ha mai usato aspirare coloro che hanno ambito a regnare su mondi diversi non hanno formulato desideri più moderati dei miei qualora i miei voti possano realizzarsi e se la fortuna che mi fa vincere ovunque mi assiste anche con voi non inviderò ad Alessandro tutte le sue conquiste forte della convinzione che coloro che hanno imposto il loro volere su tutti gli uomini non possono vantare un impero bello quanto il mio vi direi di più signorina ma in questo preciso momento mi accingo a dar battaglia all'esercito imperiale e ad espugnare Norimberga nel giro di sei ore sono signorina il vostro appassionato servitore Gustavo Adolfo il brio epistolare di voiture non era riservato solo ai frequentatori dell'hotel de Rambouillet la sua corrispondenza con Constart un erudito latinista suo contemporaneo mostra come il nuovo stile di comunicazione si andasse diffondendo anche fra i letterati professionisti nel carteggio voiture-constart lo sfoggio di sapere le citazioni in latino e in greco vanno di pari passo con il desiderio di brillare ora il biglietto che stiamo per ascoltare è un biglietto senza data in cui voiture accanito giocatore chiede a Costart di imprestargli una grossa somma persa al gioco la non facile richiesta punta sulla sorpresa voiture invece di supplicare la cortesia dall'amico si impone e spiega all'amico di essere fortunato di avere l'occasione di rendergli un servizio ieri ho perso al gioco tutti i miei soldi e in aggiunta 200 pistole che ho promesso di restituire oggi stesso se le avete non mancate di mandarmene se non le avete prendete l'imprestito come che sia bisogna che me le imprestiate e fate bene attenzione che nessuno vi sfili in barba vostra questa bella occasione di farmi piacere da come vi conosco so che avreste difficoltà a consolarvene al fine di evitare questa disgrazia vendete piuttosto tutto ciò che avete vedete come l'amore è imperioso provo un certo piacere a fare così con voi e ne proverei uno più grande se faceste così con me ma siete troppo vigliacco da questo potete giudicare la fiducia che ripongo in voi oso dirvi delle verità scortesi nel momento in cui mi siete più necessario ne aggiungerò una che vi sarà più gradita e che riparerà questa ingiuria è che vi amo più di qualsiasi altro uomo al mondo e tanto quanto tutte le donne senza fare eccezione della mia nuova fiamma la palla è lanciata e Costar la rilancia con brio pari a quello di Guattur il loro dialogo è un dialogo fra letterati gentiluomini che ostentano lo sprezzo del denaro provo una gioia estrema per essere in condizione di farvi il piccolo favore che mi chiedete non avrei mai pensato che 200 pistole potessero procurare un così gran piacere avendolo sperimentato vi do la mia parola che d'ora in avanti avrò sempre un piccolo fondo pronto per tutte le volte in cui ne avrete bisogno ordinatemi dunque senza timore quel che più vi aggrada il piacere che troverete nel comandarmi sarà sempre inferiore a quello che provo nell'obbedirvi nello spazio mondano del salotto Guattur aveva la sensazione di essere un uguale ma la differenza sociale tra lui e i suoi aristocratici ospiti permaneva e non mancava qualcuno all'occorrenza pronto a ricordarvelo la lettera che stiamo per ascoltare sempre indirizzata a Costar esprime l'indignazione di Guattur per il fatto che circolano su di lui dei versi anonimi in cui si fa rimare il suo nome Guattur con Rottur vale a dire con plebeo non c'è traccia di ironia in questa lettera ma sentiamo vibrare tutta la dignità del borghese e dell'intellettuale offeso davanti all'insulto vi mando dei versi che sono stati fatti contro di me dove si fa rimare Guattur con Rottur mi viene voglia di far vedere a Monsieur Chaplain questa bella poesia che è stata composta in mia lode perché sia più contento di avermi paragonato a Orazio in effetti anche se non ci assomigliamo in nient'altro ci assomigliamo per la nostra estrazione plebea se il nostro genio è diverso la nostra nascita è uguale e mi sembra che quando avrò fatto un libro potrò ben dirgli quello che lui stesso dice al suo se i tuoi lettori si informano della mia condizione risponderai loro che essendo nato da un padre che era uomo da poco e che non aveva fortuna ho preso e sostenuto un volo più alto di quello che comportava la piccolezza del mio nido tu racconterai un libretto che ero nato da padre liberto in una povera casa e volai oltre assai al mio piccolo nido non oserei aggiungere ciò che segue quanto non dirai della nascita lo attribuirai al merito ditelo per me se ritenete che lo meriti in verità signore coloro che mi muovono simili rimproveri mi conoscono assai male se pensano di farmi dispetto vi assicuro che vorrei che tutti sapessero chi sono mi si vituperebbe meno se valessi poco e se avessi del merito mi si stimerebbe ancora di più certamente la nobiltà occupa un posto importante nell'ordine dei beni di fortuna e costituisce un vantaggio che consente di acquisirne molti altri ma vi sono molte altre cose più desiderabili nella vita e sarebbe una delle ultime che immaginerei di desiderare se non si potesse essere generosi senza essere quello che i latini chiamano generosus se non si potesse avere lo spirito bello l'anima forte grande superiore se la salute la reputazione le ricchezze dipendessero necessariamente da lì allora non ci sarebbe consolazione possibile né per Orazio né per me ma non è così grazie a Dio e so che vi è un'intera satira di giovenale sull'argomento e un'intera ringa di Mario in Sallustio e voi signore che amate tanto fare delle parafrasi e ne fate di così pregiate non dubito che abbiate tradotto tutti quei bei passi e non li sappiate a memoria ma forse non conoscete quel proverbio castigliano secondo cui ciascuno è figlio delle sue opere né la risposta data da un bravo o del suo paese a un signore italiano io e il mio braccio destro che mi riconosco a quest'ora come padre valiamo più di voi permettetemi anche di precisare che in spagnolo idalgo che significa gentiluomo viene da icodalgo come dire figlio di qualche cosa per sottolineare che la vera nobiltà ci viene dalle azioni virtuose che ci danno una seconda nascita migliore e più gloriosa della prima stando così le cose signore colui che è plebeo può rinascere gentiluomo e inondare la sua vita di luce nonostante l'oscurità della sua origine ma per far questo bisogna possedere delle qualità straordinarie che mi mancano e mi mancheranno sempre sono molto contento che non siano indispensabili per avere la vostra amicizia perderei la speranza di poterla conservare e questo è uno dei pensieri che più mi rallegra vorrei parlarvi questa sera del ruolo determinante avuto dalle donne nella società mondana d'antico regime di cui stiamo raccontando la storia niente è in realtà più contraddittorio della condizione femminile nella Francia del 600 e del 700 sul piano giuridico la donna dipende dall'autorità del padre e del marito non può disporre di sé non può disporre del suo denaro a sua volta la chiesa la tratta con sospetto continua a considerarla un'eva tentatrice cerca di limitarne la sfera d'azione e la tiene lontana dalla cultura sul piano mondano invece la condizione di privilegio di cui gode la donna all'interno della società aristocratica costituisce un'eccezione in tutta l'Europa fin dai tempi della civiltà cortese infatti la donna della nobiltà è stata posta sopra un piedistallo e proprio sulla base della sua fragilità e della sua debolezza è oggetto della devozione e dell'ammirazione del cavaliere l'esempio di madame de rambuille è emblematico saranno le donne a dettare legge in fatto di cortesia e di eleganza saranno le donne a stabilire l'uso esatto delle buone maniere saranno le donne a insegnare l'onesta galanteria e saranno le donne a decidere dei piaceri e dei divertimenti della società mondana saranno le donne cosa essenziale a essere le maestre della lingua saranno loro a costituire il punto di riferimento dell'uso corretto del francese e sarà la loro lingua la lingua parlata dalle donne a essere presa a modello nel grande dizionario dell'Accadémie francese arbitre della vita mondana le donne ne sono al tempo stesso le vittime le buone maniere costituiscono per loro uno scudo di protezione ma ad esempio interdicono loro di coltivarsi di studiare di apprendere le buone maniere impongono infatti alle donne di nascondere il loro sapere di non fare sfoggio della loro intelligenza e della loro cultura questa sofferenza per un'educazione negata emerge con chiarezza da una lettera di Madame de Pinay alla Bate Galiani iscritta nel 1771 da una donna riconosciuta da tutti per la sua intelligenza amica dei maggiori letterati dell'epoca e le stesse scrittrice e giornalista sono molto ignorante ecco il punto tutta la mia educazione si è concentrata su ciò che poteva rendermi gradevole ne ho perduto l'uso non mi resta che qualche vaga conoscenza di quell'arte e il buonsenso cosa rara ai giorni nostri ne convengo ma di cui non vale tuttavia la pena di far mostra la reputazione di una donna a belle esprimi sembra una presa in giro inventata dagli uomini per vendicarsi del fatto che generalmente le donne hanno uno spirito più gradevole del loro tanto più che si associa quasi sempre a questo epiteto l'idea di una donna sapiente e la più sapiente delle donne non ha e non può avere che delle conoscenze estremamente superficiali sostengo dunque che una donna per il fatto d'essere donna non ha la possibilità di acquisirne di abbastanza estese per essere utile ai suoi simili e mi sembra che solo da quello sia possibile menare ragionevolmente vanto per poter far uso utilmente delle proprie conoscenze di qualunque genere esse siano bisogna poter unire la pratica alla teoria senza questo si hanno solo delle nozioni imperfette concludiamo dunque da tutto ciò che una donna ha torto e si espone solo al ridicolo quando si spaccia per sapiente o per bell'esprit e crede di poter difendere questa sua reputazione ma che ha più che mai ragione nell'apprendere il maggior numero di conoscenze possibili ha più che mai ragione espletati i doveri di madre di figlia di sposa di dedicarsi allo studio o al lavoro perché è un modo sicuro di bastare a se stessi di essere libera e indipendente di consolarsi dalle ingiustizie della sorte e degli uomini che ci testimoniano il massimo dell'attenzione e della considerazione quando meno se ne sente il bisogno l'intelligenza lo spirito la grazia la bellezza delle maniere perfette una conversazione squisita erano state le sole risorse della incredibile ascesa sociale di Madame de Maintenon nipote del grande poeta uganotto Agrippa Dobigny Françoise Dobigny era nata in una prigione dove suo padre era rinchiuso per debiti rimasta orfana molto presto si era sposata a 16 anni per non entrare in convento con Paul Scaron famoso poeta libertino dell'epoca noto per la sua intelligenza ma squatrinato e completamente paralizzato da un'artrosi deformante rimasta vedova a 25 anni la vedova Scaron era riuscita a essere ammessa nella miglior società parigina del tempo era diventata amica di la Rochoucault di Madame de Lafayette di Madame de Sevigny mantenendo la sua reputazione intatta frequentando i salotti parigini aveva conosciuto Madame de Montespan l'amante in carica di Luigi XIV che le aveva affidato il compito di allevare i figli legittimi che aveva avuto con il re ma quando Luigi XIV l'aveva conosciuta l'aveva voluta a corte ne aveva fatto la sua amante le aveva dato il nome di Madame de Maintenon e il marchesato che lo accompagnava e finalmente alla morte della regina ne aveva fatto la sua sposa segreta la sua sposa morganatica e gli aveva affidato la cura di riconciliarlo con Dio di riportarlo sulla via della religione eppure arrivata al sommo della piramide sociale Madame de Maintenon non riusciva a conservare la bella reputazione a cui aveva tenuto per tutta la vita prigioniera di Versailles in una situazione ambigua non riconosciuta doveva voltare le spalle alle regole della mondanità e recitare un falso personaggio la satira l'avrebbe infatti dipinta come un ipocrita come un tartuffe e questo emerge con chiarezza nel perfido ritratto che le ha dedicato Saint-Simon era una donna di molto spirito che le migliori compagnie dove era stata da prima tollerata e di cui presto aveva fatto il piacere avevano raffinato e perfezionato nella scienza del mondo e che la galanteria aveva finito per rendere ancora più gradevole le diverse condizioni in cui si era trovata a vivere l'avevano resa adulatrice compiacente sempre attenta a piacere una grazia incomparabile in tutto un'aria disinvolta e tuttavia piena di modestia e di rispetto attitudini ormai naturale dopo tanti anni di vita subalterna mettevano meravigliosamente in valore i suoi talenti a questo si aggiungeva un linguaggio dolce preciso con un'eccellente scelta dei termini e naturalmente eloquente e conciso la sua stagione migliore per chi aveva tre o quattro anni più del re era stata quella delle belle conversazioni della bella galanteria in una parola di quelle che chiamavano le Ruel e il suo spirito ne era stato così fortemente influenzato che ne aveva sempre conservato il gusto e l'impronta il tono prezioso e affettato che caratterizzava un po' il gusto dell'epoca a cui era rimasta fedele si era accentuato con la vernice dell'importanza e si accrebbe con quello della devozione che diventò il carattere dominante e che sembrò e che sembrò assorbire tutto il resto le era di importanza capitale per mantenersi là dove era arrivata e lo fu ugualmente per governare quest'ultimo punto è stato la sua ragion d'essere tutto il resto gli venne sacrificato senza riserve si dice che il seicento sia il secolo che ha inventato l'esprit parola difficile che comporta una gamma amplissima di significati che vanno da quello spirituale a quello intellettuale a quello giocoso a quello brillante l'esprit era comunque l'ingrediente necessario per avere successo in società e doveva adattarsi ai tempi ai luoghi e alle persone nel settecento diventava oggetto di un vero e proprio culto aveva fatto la fortuna di voiture aveva creato il successo di madame de sevigny diventerà sotto la pena di voltaire un'arma micidiale ma fino allora una patente di esprit non aveva mai avuto il potere di cambiare lo statuto sociale di una persona e quanto era successo invece all'inizio del settecento a mademoiselle de launay una ragazza intelligente colta ma orfana e povera che era dovuta entrare al servizio della duchessa del men con le mansioni di oscura cameriera era stata una letterina a fontenelle a cambiarle la vita mademoiselle de launay aveva saputo che si parlava molto a parigi di una certa mademoiselle tétard in contatto con gli spiriti che fontenelle aveva onorato di una sua visita nonostante facesse professione un ufficiale di scetticismo e forse uno dei padrini del razionalismo sarà l'autrice stessa della lettera a spiegarne il successo nelle sue memorie la lettera ha incuriosito e interessato perché aveva il dono dell'à propos aveva il senso della pertinenza il senso dell'opportunità mantenendo un tono lieve e scherzoso infatti mademoiselle dell'onore aveva saputo fare riferimento al dibattito intellettuale del momento che vedeva contrapporsi fautori della tradizione e fautori della modernità di cui fontenelle era il capofila mantenendo al tempo stesso un tono giocoso e riuscendo a adulare fontenelle la propò in effetti una delle tante figure retoriche che fanno parte di questa cultura mondana come le bienseance e come l'esprit la propò deve rispettare i tempi i luoghi e le persone e deve sapere sintonizzarsi con la sensibilità e con lo spirito degli interlocutori ma sentiamo questa lettera che cambia la condizione sociale di mademoiselle dell'onore la vicenda di mademoiselle detar ha fatto minor baccano signore del vostro parere in proposito la varietà di giudizi che esso ha suscitato mi spinge a parlarvene ci stupisce e forse non senza ragione che il demolitore di oracoli colui che ha rovesciato il tripode delle sibille si sia prostrato davanti al letto di mademoiselle detar sia un bel dire come alcuni hanno fatto che è stato l'incanto e non gli incantesimi della damigella a indurvelo un filosofo non dovrebbe cedere né all'uno né agli altri sicché tutti ne parlano come dicono i critici quest'uomo che ha messo così bene in luce certi inganni perpetrati a mille leghe di distanza e più di duemila anni or sono non è riuscito a scoprire un trucco eseguito sotto i suoi occhi i cultori dell'antichità animati da un vecchio risentimento vengono alla carica vedrete dicono che vorrà situare i nuovi prodigi al di sopra di quelli antichi infine i più sottili affermano che da buon pironiano pur dubitando di tutto credete tutto possibile per parte loro i devoti sembrano molto edificati dall'omaggio che avete reso al diavolo sperano che la cosa possa portare più lontano anche le donne vi sono grate della scarsa diffidenza che avete mostrato verso gli artifici del sesso quanto a me signore sospendo il mio giudizio nell'attesa di vederci più chiaro mi limito ad osservare che l'attenzione particolare con cui si seguono fin le minime tra le vostre azioni è una prova incontestabile della stima che la gente ha per voi e trovo fianco nelle sue critiche qualcosa di abbastanza lusinghiero da non farmi temere che sia un'indiscrezione riferirvele se volete ricambiare la mia schiettezza con la vostra vi prometto di farne buon uso ho l'onore di essere eccetera 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 il successo della lettera aveva fatto sì che la duchessa del men si accorgesse dell'esistenza della sua oscura cameriera aveva preso gusto alla sua conversazione e per ovviare a dei problemi d'etichetta e averla sempre con sé l'aveva fatta sposare a un ufficiale di suo marito monsieur de Stal il matrimonio non sarebbe stato felice un matrimonio malinconico e senza amore ma madame de Stal Vellonet avrebbe contribuito con la sua intelligenza a creare il primo grande centro mondano del settecento era invece l'esprit nella sua valenza intellettuale a riscattare madame de Tinson da un'esistenza piena di scandali quella che Diderot chiamerà la scellerata canonichessa de Tinson è la prima grande vittoria dell'intelligenza sulla rispettabilità madame de Tinson avrà un salotto intellettuale fra i più importanti della Parigi del settecento madame de Tinson era stata monacata a forza da un padre tirannico si era liberata dai voti seducendo il suo confessore aveva partecipato a tutti gli scandali della regenza il suo ultimo amante si era ammazzato a casa sua accusandola di averlo derubato aveva infine abbandonato sul sagrato di una chiesa un figlio illegittimo che diventerà poi il celebre scrittore d'Alembert il successo del salotto intellettuale di madame de Tinson che sarà frequentato dagli scrittori più importanti della prima metà del settecento era dovuto soprattutto alla personalità della sua padrona di casa alla sua grande intelligenza è nel suo salotto che nasce una nuova forma di socievolezza la socievolezza dei lumi dove la conversazione non deve più soltanto divertire e svagare ma è diventata uno scambio intellettuale fra uguali ascoltiamo il ritratto che ne ha lasciato il grande Marivaux frequentatore del suo salotto che l'ha ritratta sotto il nome di madame d'Orsan a casa sua non era questione né di rango né di condizione nessuno si ricordava della sua maggiore o minore importanza erano uomini che parlavano ad altri uomini e tra di loro solo le ragioni migliori avevano la meglio su quelle più deboli nient'altro che questo o se volete che vi dica una grande parola essi erano come delle intelligenze allo stato puro tra cui non era più questione dei titoli conferiti qua giù dal caso e non credevano che le loro cariche fortuite dovessero umiliare gli uni o inorgogliere gli altri ecco come la si pensava a casa di madame d'Orsan ecco come si diventava con lei contagiati da questo suo modo di pensare ragionevole e filosofico che come vi ho detto lei era proprio e che faceva sì che tutti fossero filosofi agli inizi del settecento l'esprit era riuscito a promuovere socialmente madame d'Estal de l'Honé ma non era riuscito a affrancarla dalla tirannide della duchessa del meme cinquant'anni dopo la forza del prestigio intellettuale procurerà invece l'indipendenza a Julie de l'Espinas quando nel 1766 Julie de l'Espinas era stata cacciata dalla casa della Marchesa du Défant le dame dell'alta società parigina avevano fatto a gara per costituirle un vitalizio e per consentirle di andare a vivere da sola in modo indipendente e di aprire un salotto tutto per sé una cortesia squisita una grande delicatezza di tatto una intelligenza appassionata una sensibilità vibrante avevano fatto della oscura ragazza venuta dalla campagna una vedette dei lumi quella che ascolteremo ora è la testimonianza di Marmontel un ritratto che spiega come la seduzione verbale di Julie avesse incantato tutta una società aveva preso i suoi ospiti qua e là in società ma così ben assortiti che quando erano con lei costituivano un insieme armonioso come le corde di uno strumento montato da un'abile mano e continuando nel paragone potrei dire che suonava questo strumento con un'arte sconfinante con la genialità sembrava sapere quale suono avrebbe messo la corda che stava per toccare intendo dire che conosceva talmente bene le nostre intelligenze i nostri caratteri che le bastava una parola per farle reagire in nessun altro posto la conversazione era più viva più brillante e meglio regolata che da lei era davvero un fenomeno raro quella gradazione di calore temperata e costante che lei sapeva mantenere sempre uguale ora moderandola ora alimentandola l'interrotta attività della sua anima si comunicava alle nostre ma con misura essa era mossa dall'immaginazione e regolata dalla ragione e badate bene che le menti che rispondevano alle sue sollecitazioni non erano né deboli né leggere ne facevano parte i condigliac i turgot e d'Alanbert quando l'era accanto aveva l'aria di un semplice e docile bambino il suo talento di lanciare uno spunto di riflessione e di lasciarlo discutere a degli uomini di quel valore il suo talento di discutere lei stessa come loro con precisione talvolta con eloquenza il suo talento di proporre delle idee nuove e di variare la discussione sempre con la naturalezza e la facilità di una fata che con un colpo di bacchetta cambia a suo piacimento lo scenario dei suoi incantesimi questo talento io dico non era quello di una donna qualunque vorrei parlarvi questa sera dell'importanza che la scrittura epistolare andava assumendo nella civiltà mondana francese di cui andiamo raccontando la storia nel 1624 lo scrittore più famoso della sua epoca Gesde Balzac conquistava il pubblico mondano pubblicando una raccolta di lettere questa raccolta è importantissima per due motivi prima di tutto perché Balzac abbandonava il latino la lingua convenzionale usata dai letterati fra di loro per il francese e dimostrava le possibilità straordinarie del francese giudicato ormai una lingua matura dimostrava inoltre la possibilità che la scrittura familiare aveva la scrittura familiare in senso di un genere familiare come quello della lettera la possibilità che la scrittura familiare aveva di trasformarsi in prosa d'arte ma era Voiture contemporaneo di Balzac che non si voleva uno scrittore professionista ma un semplice dilettante a imporre la linea maestra dello stile epistolare all'insegna della naturalezza e in un rapporto mimetico con la conversazione ma la scrittura epistolare non era solo appannaggio degli scrittori lo sviluppo stesso della società mondana ne faceva un mezzo di comunicazione importante ma Moselle de Scuderie l'aveva definita la conversazione degli assenti grazie alla lettera chi era costretto a sentarsi da Parigi e abbandonare per un momento la vita mondana riusciva a mantenere sveglio il suo ricordo e le sue lettere potevano essere lette commentate e costituire un successo a sé stante ma tutto questo a condizione di sapere conservare la grazia il brio il tono della conversazione ma i mondani non avevano certo bisogno dei letterati per impararlo da sempre queste qualità erano il loro appannaggio ed erano soprattutto l'appannaggio tipico del dame la lettera che leggeremo ora è di Mlle de Rambouillet la figlia primogenita della Marchesa di Rambouillet celebre per il suo gusto per il suo esprit e per la conoscenza perfetta che aveva del francese indirizzata a Madame de Sablé frequentatrice del salotto di sua madre personalità di prima importanza nella vita di società dell'epoca ora Madame de Sablé aveva la fobia delle malattie ed era nota per riuscire a architettare dei sistemi complicatissimi per evitare di entrare in contatto non solo con le persone malate ma con tutti coloro che potevano portare il contagio la dama di compagnia avrà la cortesia di leggere questa lettera la signora Marchesa sottovento signora credo di non poter dare inizio troppo presto alle mie trattative con voi perché sono certa che tra la prima proposta che mi verrà fatta di vedervi e la conclusione voi avrete talmente tanto su cui riflettere talmente tanti medici da consultare talmente tanti timori da sormontare che nel frattempo avrò avuto ampio modo di aerarmi le condizioni che vi propongo sono non venire da voi se non dopo tre giorni di assenza dall'hotel de conde di cambiare tutti gli indumenti di scegliere un giorno in cui ha gelato di tenermi a non meno di quattro passi di distanza da voi di sedermi sempre sulla stessa segna quanto a voi potrete accendere un gran fuoco in camera vostra bruciare del ginepro ai quattro angoli della stanza spandere tutto intorno dell'aceto imperiale della ruta e dell'assenzio se vi sentite sufficientemente rassicurata dalle mie proposte senza che debba tagliarmi i capelli vi giuro di eseguirle con scrupolo religioso se avete bisogno di esempi per darvi coraggio vi dirò che la regina ha consentito a vedere monsieur de Chauderbon appena reduce dalla camera di mademoiselle de Bourbon e che madame de Guillon la quale se ne intende di queste cose ed è inappuntabile in materia mi ha appena fatto dire che qualora non la volessi vedere verrebbe lei stessa a cercarmi a forza di voler essere spiritosa mademoiselle de Rambouillet ha evidentemente ecceduto ha superato il limite richiesto dalle bienseance e la sua ironia giocosa si è trasformata in sarcasmo madame de Sablé ne è profondamente ferita e risponde all'amica con una lezione di eleganza morale madame de Sablé è famosa per la sua conoscenza psicologica del cuore umano il suo amico Larouche-Foucault dirà di lei che nessuno conosce come lei le pieghe dell'anima umana e questa lettera lo dimostra vi trovo così bene informata su tutte le precauzioni in uso tra i codardi che mi domando se avessi ragione due giorni fa di contraddire una delle vostre amiche quando sosteneva che avreste visto mademoiselle de Bourbon senza timore di sorta non è come potete immaginare che voglia negare alla vostra generosità tutti gli onori che merita perché so bene che se ce ne fosse bisogno essa vi farebbe sormontare ogni ostacolo per non mancare mai al vostro dovere tuttavia avete fatto delle riflessioni così belle sulla paura da indurmi a sperare che dal momento che conoscete così bene i pericoli forse un giorno sarete in condizione di temerli facendo ai vostri amici il piacere di proteggervi meglio per il futuro del resto avete detto tutto ciò che si può pensare sulla paura e non avete mai scritto niente di più grazioso ma vi rispondo che che ne pensiate che siete andata molto al di là delle mie precauzioni non prendo con il mio medico misure maggiori di quelle che mi proponete promettendomi di cambiare d'abito infatti quando ho bisogno di lui sono pronta a vederlo anche se viene dall'aver visitato una persona colpita dal vaiolo basta che non si presenti con un abito sudicio che si impregna più facilmente di aria viziata di quanto farebbe un vestito pulito e in verità ho letto le lettere che avete scritto a madame de mort e le mie senza farle riscaldare e per concludere so che mademoiselle de bourbon è guarita e ne sono felice e avrò comunque una gioia senza uguali nel vedervi è con madame de sevigny che l'arte della lettera raggiunge nel seicento il suo massimo punto di perfezione vale a dire con una donna con una donna che non ha studiato ma che possiede un'intelligenza straordinaria un gusto perfetto e uno straordinario uso di mondo madame de sevigny è l'interprete massima dell'estetica galante e di questa estetica a tutti i requisiti le lettere di madame de sevigny sanno sorprendere sanno divertire sanno incantare sanno commuovere sanno fare rabbrividire sanno riempire di angoscia e di tristezza Proust parlerà di un lato Dostoievski di madame de sevigny la lettera che stiamo per ascoltare è datata 15 dicembre 1670 è la più famosa forse di tutte le sue lettere del suo grandissimo epistolario è indirizzata a suo cugino Coulange e a sua moglie annuncia il matrimonio di mademoiselle de Montpensier della grand mademoiselle cugina germana del re con uno scuro nobile che ha saputo conquistare il cuore di questa vecchia zitella che ha rifiutato una serie notevole di pretendenti non giudicandoli adeguati al suo rango e che dettaglio non trascurabile è la più grossa ereditiera di Francia sto per dirvi la cosa più stupefacente più sorprendente più mirabolante più miracolosa più trionfale più sbalorditiva più inaudita più singolare più rara più comune più clamorosa più segreta fino ad oggi più brillante più degna di invidia insomma una cosa di cui non vi esempio nei secoli una cosa da non credere a Parigi e come si potrebbe credervi a Lione una cosa che fa gridare misericordia a tutti una cosa infine che si farà domenica e che forse non sarà fatta lunedì non posso decidermi a dirla indovinatela ve la do uno a tre non riuscite a indovinare? ebbene bisogna proprio che ve lo dica monsieur de Lausanne sposa a Louvre indovinate chi ve la do uno a quattro uno a dieci uno a cento madame Leculange dice in verità è ben difficile indovinarlo è mademoiselle de Lavallier? niente affatto signora allora è mademoiselle de Rez niente affatto siete davvero provinciale in verità siamo proprio stupidi dite voi è mademoiselle Colbert meno che mai sarà dunque mademoiselle de Crecchi non ci siete allora debbo proprio dirvelo domenica monsieur de Lausanne sposa a Louvre con il permesso del re mademoiselle mademoiselle de mademoiselle indovinate il nome sposa mademoiselle infede mia infede mademoiselle la grande mademoiselle mademoiselle figlia del defunto monsieur mademoiselle nipote di Enrico quarto mademoiselle de mademoiselle de d'ombe mademoiselle de montpensier mademoiselle d'orléan mademoiselle cugina germana del re mademoiselle destinata al trono mademoiselle il solo partito di Francia che sarebbe stato degno di monsieur fratello del re ecco un bell'argomento di conversazione se gridate se siete fuori di voi se dite che abbiamo mentito che è falso che vi si prende in giro che si tratta di una bella celia che è una trovata insulsa se in conclusione ci lanciate delle ingiurie troveremo che avete ragione è ciò che abbiamo fatto anche noi addio le lettere che arriveranno con il corriere ordinario vi faranno vedere se diciamo o no la verità anche la lettera che stiamo per ascoltare è indirizzata a madame de sablée a scriverla è un giovane provinciale arrivato a parigi che desidera avere successo negli ambienti mondani è il visconte de guierag che non solo riuscirà nel suo intento ma diventerà celebre per le sue missioni diplomatiche soprattutto per avere scritto un piccolo capolavoro un romanzo epistolare che si chiama le lettere portoghesi siamo nel 1655 e il visconte de guierag vuole essere a tutti i costi ricevuto nel salotto di madame de sablée perché è uno dei luoghi importanti della mondanità parigina e vuole dimostrare di possedere tutti i requisiti necessari per questa iniziazione le scrive quindi una lettera una lettera in cui fa sfoggio di eleganza di immediatezza di adulazione e di gusto della sorpresa invece di supplicare madame de sablée di accoglierlo di scrivergli un biglietto lo esige e lo impone signora so bene di non meritare le vostre lettere ma nonostante questo le voglio ecco un inizio sfacciato che certamente vi sorprenderà effettivamente bisognava chiedere una cosa così preziosa con minor sfrontatezza soprattutto a una persona come voi che avete tutto il merito che è possibile immaginare e un'eguale delicatezza ma signora sapete bene che si parla con impeto quando si desidera con violenza e che questa parola voglio non è sempre riservata alla bocca delle amanti e dei re questi due tipi di persone che confondono la ragione con la volontà non vogliono sempre delle cose troppo ragionevoli e non dovrebbero dire spesso voglio per quel che mi riguarda quel che desidero è così eccelso e lo desidero con una tale passione che se ci fosse qualcosa al di sopra di voglio dovrei essere autorizzato a dirla permettetemi dunque signora per concludere il mio biglietto in modo se possibile ancora più folle di come l'ho cominciato di dire come il re al suo sergente e la regina al suo figlio perché sono gli ordini più assoluti a cui si possa pensare che voglio che mi facciate l'onore di scrivere e di credermi con un rispetto estremo sapere scrivere delle lettere brillanti ed eleganti diventa una necessità anche per i numerosi stranieri che visitano Parigi e vogliono mantenere dei contatti con l'élite intellettuale parigina innamorato della Francia Chesterfield compie numerosi soggiorni e si mantiene in contatto epistolare con Madame de Tensan la lettera che ascolteremo ora è una lettera di Madame de Tensan in risposta a Chesterfield da cui emerge indirettamente la capacità del Lord inglese di essere perfettamente in sintonia con lo spirito e le maniere francesi avrei voluto mi Lord che foste testimone dell'accoglienza fatta alla vostra lettera mi fu consegnata da Monsieur de Montesquieu alla presenza delle persone che conoscete le cose lusinghiere che mi dicevate mi impedirono per qualche istante di mostrarla ma l'amor proprio trova sempre modo di avere il suo tornaconto il mio mi suggerì che era un'ingiustizia di privarvi in nome della modestia di lodi degne di voi la lettera dunque fu letta e non una sola volta debbo confessarvi che produsse un effetto molto diverso da quello che mi aspettavo questo mi Lord esclamò Monsieur de Fontenelle subito seguito dagli altri ci vuole prendere in giro scrivendo nella nostra lingua meglio e più correttamente di noi che abbia la bontà di accontentarsi di essere il primo gentiluomo della sua nazione di avere i lumi e la profondità del genio che la caratterizzano e che non venga in aggiunta a impadronirsi delle nostre grazie e della nostra cortesia pubblicate soltanto nel settecento le lettere di Madame de Sivigny diventano subito oggetto di culto e alle lettere di Madame de Sivigny che si ispira ad esempio Horace Walpole il grande aristocratico inglese che sta perseguendo il progetto di un grande epistolario che dovrà avere la funzione di costituire uno specchio completo della società inglese della sua epoca proprio perché a conoscenza della grande ammirazione che Walpole consacra a Madame de Sivigny che la amica parigina di Walpole Madame de Defon decide di fargli uno scherzo fa confezionare in gran segreto una tabacchiera d'oro con sul coperchio il ritratto di Madame de Sivigny e l'iniziale della Marchesa sul retro grazie a una complicatissima organizzazione riesce a fare trovare questa tabacchiera a Walpole sulla sua scrivania londinese e la tabacchiera accompagnata da un breve biglietto a firma di Madame de Sivigny che naturalmente è stato scritto da Madame de Defon che dimostra così di avere un talento epistolare degno della Marchesa secentesca dai campi lisi senza tempo senza data conosco la vostra folle passione per me il vostro entusiasmo per le mie lettere la vostra venerazione per i luoghi che ho abitato so del culto che la mi avete reso e sono così commossa che ho chiesto e ottenuto dai miei sovrani il permesso di venirvi a trovare per non lasciarvi più abbandono senza rimpianto questi luoghi fortunati vi preferisco a tutti i loro abitanti godete dunque del piacere di vedermi e non rammaricatevi che sia solo in effigie è l'unica esistenza che possono avere le ombre sono stata padrona di decidere l'età in cui desideravo riapparire ho scelto di avere 25 anni per garantirmi di essere sempre per voi un oggetto piacevole non abbiate timore che io cambi è un singolare vantaggio delle ombre benché leggere sono immutabili ho assunto l'aspetto più piccolo che mi è stato possibile per non essere mai separata da voi voglio accompagnarvi ovunque per mare per terra in città in campagna ma quel che esigo da voi è di condurmi prestissimo in Francia di farmi rivedere la mia patria la città di Parigi e di scegliervi per abitazione il Faubourg Saint Germain perché è là che abitavano le mie migliori amiche e vivono le vostre me le farete conoscere e sarò molto contenta di giudicare se siano degne di voi e di essere le rivali di Raboutin de Sévigny Questa sera ci occuperemo di buone maniere e dell'importanza centrale che esse hanno avuto nella civiltà francese di antico regime all'inizio del Seicento le buone maniere erano servite a stemperare la violenza di una casta guerriera che aveva deciso di preferire di gareggiare in grazia ed eleganza anziché di farsi la guerra le buone maniere erano state d'altronde anche il segno distintivo di una classe sociale quella della nobiltà nel giro di qualche decennio le buone maniere diventavano anche il tratto distintivo di tutta la nazione lo riconosce anche Voltaire non sempre tenero con i suoi connazionali quando scrive sin dai tempi della reggenza d'Anna d'Austria i francesi sono il popolo più socievole e più cortese della terra ora dobbiamo a un filosofo scozzese a David Hume che conosceva profondamente la Francia dove aveva soggiornato intorno alla metà del Settecento per alcuni anni l'analisi più sottile più interessante della cortesia francese secondo David Hume la dinamica che si instaura fra cortesia e politesse può nascere soltanto in una società aristocratica e in una monarchia assoluta scrive Hume in una lunga catena di dipendenza che va dal principe al contadino la cortesia genera in ciascuno l'inclinazione di piacere sui superiori formandosi sul loro modello quale esempio migliore della cortesia squisita mostrata da Luigi XIV il più assoluto il più tirannico dei sovrani d'Europa a questa cortesia rende omaggio il duca di Saint-Simon che pure detestava Ressule mai gli è accaduto di dire qualcosa di scortese a chi che sia e se doveva abiasimare rimproverare correggere cosa che gli succedeva raramente era sempre con un'area più o meno bonaria quasi mai in tono secco mai con collera mai uomo fu così naturalmente cortese e di una cortesia così ben misurata e graduata né più capace di distinguere l'età il merito il rango e nelle risposte quando diceva il suo vedrò e nelle maniere queste diverse condizioni erano contrassegnate con la massima precisione dal suo modo di salutare e di ricevere le riverenze quando ci si accomiatava o si arrivava era ugualmente mirabile nel ricevere i saluti quando passava il rassegno alle truppe o alle parate militari ma soprattutto con le donne non ci fu mai nessuno che gli stesse a confronto mai passò davanti alla minima cuffia senza sollevare il cappello dico per le cameriere e che egli sapeva tali per le dame si toglieva del tutto il cappello ma con un gesto che poteva essere più o meno ampio per la gente titolata se lo toglieva a metà e lo teneva sollevato o all'altezza dell'orecchio per qualche istante più o meno lungo per i signori che erano davvero tali si contentava di portare la mano al cappello se lo toglieva come faceva con le dame per i principi del sangue ma in cosa consistevano le buone maniere ce lo spiega un altro innamorato della Francia lord Chesterfield in una lettera a suo figlio che aveva per l'appunto mandato a Parigi a imparare la buona educazione è una lettera del 1756 Parigi è indiscutibilmente la sede delle grazie esse vi faranno la corte se non vi mostrerete troppo riservato al di là dall'essere civile il che è assolutamente necessario la perfezione della buona educazione consiste nell'essere civile con disinvoltura e con le maniere di un gentiluomo per questo dovreste osservare i francesi che cellono in ciò e la cui cortesia sembra facile e naturale come tutto il resto della loro conversazione laddove gli inglesi sono spesso goffi nelle loro dimostrazioni di attenzione e quando intendono essere civili sono troppo imbarazzati per mostrarlo non potete immaginarvi né mi è possibile dirvi tutti i vantaggi che possono derivare da un'aria elegante da delle maniere amabili e da un modo di proporsi accattivante e ciò vale non solo per le donne ma anche per gli uomini e persino per gli affari sono queste le cose che si educono ottengono la preferenza giocano con il cuore fino a farne la conquista conosco un uomo e lo conoscete anche voi il quale senza un briciolo di merito di sapere o di talento si è innalzato milioni di gradi al di sopra del suo livello soltanto grazie alla sua area elegante e alle sue maniere accattivanti e questo è così vero che il principe che lo ha innalzato così in alto lo chiama mio amabile è buono a nulla ma di questo non fate parola pur cosa vi confido questo segreto come la prova più grande che si possa immaginare dell'efficacia dell'apparenza del modo di proporsi dello stile e di tutte queste piccole inezze se le buone maniere erano indispensabili non erano tuttavia sufficienti a garantire il successo mondano per avere successo per piacere bisognava anche possedere quel certo non so che il je ne sais quoi qualità ineffabile che sfuggiva a ogni definizione a ogni analisi razionale e di cui lord chesterfield tenta di dare la spiegazione in una lettera del 1768 immagino immagino che abbiate sentito e letto molte cose su quel certo non so che e in francese come in inglese dal momento che l'espressione è ora adottata nella nostra lingua ma mi domando se abbiate un'idea chiara di ciò che essa significa e in effetti è più facile sentirla che definirla è la qualità più inestimabile e adorna tutte le altre mi sforzerò di darvene una nozione generale non potendo ve ne fornire una esatta è l'esperienza che deve insegnarvela e lo farà se vi porrete attenzione si tratta a mio parere dell'insieme di tutte le qualità piacevoli del corpo e della mente dove nessuna predomina in modo tale da escluderne le altre esso ci predispone a favore di una certa persona senza conoscerla abbastanza da giudicare il suo merito intrinseco o i suoi talenti e ci inclina a supporle buon senso buona natura e buon carattere un approccio gentile maniere graziose un modo di parlare gradevole ed eleganza di stile sono ingredienti importanti di questo insieme si tratta insomma della quintessenza di tutte le grazie a questo punto forse mi domanderete di darvi una definizione delle grazie cosa che posso fare solo facendo ricorso a quel certo non so che così come posso definire quel certo non so che solo facendo ricorso alle grazie nessuno le possiede tutte socrate il pagano più saggio e più onesto mai esistito attribuiva alle grazie un'importanza tale da consigliare ai suoi discepoli di offrire loro sacrifici sulla scorta di un'autorità così somma vi raccomanderò in tutta onestà di sacrificare loro invitatele invogliatele supplicatele di accompagnarvi in tutto ciò che fate e dite e sacrificate loro ogni attimo d'ozio e di pigrizia tramandate di generazione in generazione le buone maniere erano diventate per le dame dell'alta società francese una seconda natura non era così per una provinciale svizzera come Madame Necker approdata a Parigi e improvvisamente al centro della scena mondana perché suo marito Jacques Necker era stato chiamato nel 1777 ad assumere l'importantissima carica di controllore generale delle finanze con metodicità svizzera Madame Necker incominciava a osservare il comportamento delle dame del bel mondo tentando di imitarlo e appuntando giorno dopo giorno sui suoi tacquini annotazioni riflessioni consigli e in effetti questi suoi tacquini possono essere anche considerati l'ultimo manuale di buone maniere scritto in Francia prima della rivoluzione francese se si fa o si riceve una visita bisogna sedersi dolcemente con un'aria calma avere uno sguardo interessato e attento dire delle parole delicate o cortesi non fare mai uso di espressioni troppo forti non cercare di far sapere di essere in rapporto con le persone importanti di cui si parla non volere troppo riempire ed animare la conversazione tollerare qualche pausa lasciar venire la parola a sé e non correrle incontro così ci si mostra superiori a quel che si dice mentre la premura di parlare fa supporre che si reputi il proprio pensiero degno d'ammirazione non bisogna affrettarsi a raccontare delle storie e nella conversazione ci si deve concedere dei momenti di abbandono solo quando è un movimento dell'anima a trascinarci nostro malgrado sotto la spinta del dolore o dall'indignazione l'abbandono si addice anche nelle esplosioni di allegria e allora si può esagerare ma la fredda determinazione non piace mai uno dei primi requisiti di una dama di mondo era saper ricevere madame de rambouillet aveva fissato una volta per tutte le regole di base di questo rito bisognava essere una piccola compagnia scelta legata da vincoli di simpatia e di affinità la famosa romanziera del seicento ma Moselle de Scuderie ci dice invece come non bisogna ricevere i suoi consigli sono rivolti alla società del seicento ma sarebbero attualissimi anche oggi siete troppo ragionevole ed educata per dare come fanno certuni quei terribili ricevimenti con cui ci si vuole disobbligare in una sola volta di tutti gli inviti a pranzo ricevuti nel corso di un anno di quei ricevimenti a cui prendono parte un gran numero di persone che per lo più non si conoscono che non sanno di cosa parlare dove gli sciocchi sono assai più numerosi della gente di merito dove tuttavia si parla molto per non dire niente dove la conversazione è un rumore confuso piuttosto che un attentico scambio dove regna la cerimoniosità e dove noia e fastidio sono di casa dove infine la moltitudine fa rimpiangere di non essere soli madame du Delfont aveva detto la cena è uno dei quattro fini dell'uomo ho dimenticato gli altri tre la battuta paradossale sottolinea l'importanza che il rito del pasto aveva nella socievolezza francese d'antico regime ormai molto anziana Ninon de Lanclot scriveva al suo amico Saint-Evremont in esilio a Londra quanto avrebbe desiderato di condividere ancora una volta con lui il piacere di cenare e conversare insieme come invidio quelli che vanno in Inghilterra e come mi farebbe piacere cenare ancora una volta con voi ma non è una cosa grossolana desiderare una cena lo spirito ha dei grandi vantaggi sul corpo eppure questo corpo fornisce spesso dei piccoli piaceri che si ripetono e che sollevano l'anima dalle sue tristi riflessioni vi siete spesso preso gioco di quelle che facevo le ho messe tutte al bando sono fuori luogo quando si è giunti all'ultimo periodo della vita bisogna accontentarsi del giorno in cui si vive anche questa lettera scritta un secolo dopo dall'abate Galiani nel 1764 e indirizzata a Madame Necker riflette una profonda nostalgia Galiani era dovuto tornare a Napoli e partecipava con il pensiero a una cena a casa dei Necker a una di quelle cene in cui si raccoglieva tutto lo stato maggiore dell'intelligenza parigina vi scrivo a una condizione che non mi rispondiate con una lettera troppo bella o troppo sublime voglio sapere da voi semplicemente alla buona come state vi annoiate ecco le mie domande e le mie curiosità sono naturali perché non dubitatene non c'è venerdì che non venga da voi in spirito arrivo vi trovo ora ancora in tenta a farvi bella ora allungata su quella ducess mi siedo ai vostri piedi domani patisce senza troppo mostrarlo Morlè non nasconde il suo furore Grimm e Suar ci ridono sopra di buon cuore e il mio caro conte di Creutz non si accorge di niente Marmontel trova che valga la pena di imitarlo e voi signora siete combattuta da due delle vostre virtù più belle il pudore e la cortesia e alle prese con questo conflitto mi trovate un piccolo mostro più imbarazzante che odioso si annuncia che il pranzo è servito passiamo a tavola gli altri mangiano di grasso io osservo il magro e mi lancio su quel merluzzo venuto dalla Scozia che mi piace moltissimo e di cui faccio una scorpacciata pur ammirando l'abilità della B. Morlè nel tagliare un piccolo tacchino ci si alza da tavola si è arrivati al caffè tutti parlano contemporaneamente l'abbè Morlè è d'accordo con me che Boston nell'America inglese sono separati per sempre dall'Inghilterra e intanto Creutz e Marmontel convengono che Gretry è il pergolesi francese Messie Necker non trova niente da obiettare chi non ha la testa e se ne va ecco i miei venerdì ma voi mi vedete come vi vedo io avete altrettanta immaginazione se mi vedete e mi toccate sentirete che adesso vi sto baciando teneramente la mano sorridete allora addio sono contento una lettera del cavaliere di Lille al principe di Ligne ci trasporta invece a Versailles nell'appartamento di Diana di Polignac cognata della favorita di Maria Antonietta siamo nel 1780 nove anni prima della rivoluzione francese eppure niente sembra turbare la solare allegria di questo gruppo di giovani aristocratici la cui leggerezza sarà presto fatale alle sorti della corona francese che tacchino abbiamo appena mangiato a casa della contessa di Anne mio Dio che bella bestia è stato il signore di Poix che l'ha fatto venire dalla riserva reale eravamo otto intorno a lui la padrona di casa la contessa a Jules le signore de Nantes e de la Force il conte d'Artois il signore di Vedreuil il cavaliere di Crusol ed io abbiamo parlato di voi e poi dell'ammiraglio Keppel e poi del tacchino e poi della cattura delle nostre due fregate e poi dell'inquisizione spagnola e poi di una grossa forma di gruviera che il nostro ambasciatore in Svizzera ha appena mandato ai suoi figli e poi della strana condotta degli spagnoli nei nostri confronti e poi di Mademoiselle Theodore che danza in fede mia meglio che mai e che ieri ci ha incantato con il suo talento non meno di quanto ha fatto Mademoiselle Cecil con i suoi vezzi giovanili domani la regina vedrà tutti quanti per la prima volta fino ad ora aveva visto soltanto coloro che hanno diritto d'accesso alla sua stanza è un po' dimagrita ma la sua salute è buona il re si rivela ogni giorno di più buon marito buon padre buon uomo non lo si può vedere senza amarlo sinceramente e senza ammirare in lui la probità personificata vi assicuro che siamo fortunati di avere questa coppia sul nostro trono che nella sua bontà e il cielo che ve l'ha messa ve la conservi a lungo domani ce ne andiamo tutti a Parigi per celebrare l'inaugurazione della deliziosa petite maison che si è fatto fare il duca di Quagni e dove metteremo cosa credete che metteremo metteremo per la prima volta i piatti in tavola avremo facezie proverbi cuple gioie di ogni tipo e sarà una bellissima cerimonia questa sera ci occuperemo dei modi e degli argomenti del conversare in quella società mondana d'antico regime di cui stiamo facendo la storia fin dalle origini della civiltà mondana infatti la conversazione si era imposto come rito centrale di tutta una società essa doveva creare un'atmosfera di consenso e di armonia svagava istruiva divertiva faceva dimenticare con la sua atmosfera euforica i molteplici drammi dell'esistenza espandeva intorno a sé il benefico balsamo dell'oblio saper conversare era un requisito necessario per tutti quelli che volevano avere successo era anche il massimo momento di esposizione dell'individuo la conversazione implicava il perfetto controllo dell'espressione del volto della gestualità della tonalità della voce e naturalmente il banco di prova fondamentale era quello dell'esprit dello spirito per questo la conversazione diventava oggetto di una riflessione costante e di una normativa complessa bisognava per saper conversare conoscere il mondo vale a dire dare a ciascuno ciò che gli era dovuto riconoscere la sua posizione sociale i suoi titoli gli incarichi che ricopriva in quel momento bisognava poi soprattutto sapere ascoltare intuire la personalità dell'interlocutore metterlo in valore il primo dei requisiti del buon conversatore era quello di accattivare di piacere ma quali erano i contenuti della conversazione il cavaliere di meret sosteneva che tutti gli argomenti erano uguali l'importante era come se ne parlava ma moiselle de schiuderie la romanziera che aveva passato in rassegna uno dopo l'altro i problemi etici estetici della società mondana era più precisa sentiamo le sue istruzioni essa deve trattare il più sovente delle cose abituali e galanti anziché delle grandi cose eppure ritengo che non vi sia niente che non vi possa figurare che debba essere libera e diversificata secondo i tempi i luoghi e le persone con cui si trova e che il gran segreto è di parlare sempre nobilmente delle cose basse abbastanza semplicemente delle cose elevate e molto galantemente delle cose galanti senza zelo e senza affettazione voglio anche che vi regni un certo spirito di gioia capace di ispirare nei cuori di tutta la compagnia una disposizione a divertirsi di tutto e a non annoiarsi di niente voglio che si dicano delle grandi e delle piccole cose purché le si dicano sempre bene e che sia pur con la massima libertà si parli soltanto di ciò di cui si deve parlare in realtà molte erano le cose di cui non si doveva parlare non si doveva parlare di faccende domestiche e private perché noiose non si doveva parlare di politica e di religione perché erano argomenti pericolosi non si doveva parlare di sé dei propri successi delle proprie relazioni importanti ci si occupava invece dei piccoli e grandi avvenimenti che intessevano la vita mondana ma ci si occupava anche di letteratura di musica di teatro di arte di psicologia di morale di tutto quello che contribuiva a fare dell'ozio mondano un'arte raffinata del vivere la descrizione che ascolteremo ora è di Perbo Ur scritta intorno al 1670 ci descrive la tipologia del conversatore mondano in azione la loro caratteristica è di parlare bene con facilità e di dare un'intonazione piacevole a tutto quello che dicono nelle riunioni fanno sempre delle battute estremamente appropriate non mancano mai di qualche quesito sottile da proporre e di qualche storia graziosa da raccontare per avvivare la conversazione quando comincia a languire basta pochissimo per incoraggiarli e allora dicono mille cose sorprendenti specialmente nelle conversazioni giocose essi brillano per la loro arte di scherzare con spirito e di celiare con finezza ma se la cavano egregiamente anche nelle conversazioni serie non si dà argomento su cui non ragionano bene e parlano sempre con buon senso quest'arte dello scherzo era in realtà piena di insidie prendere garbatamente in giro qualcuno era la forma più delicata di complimento di adulazione significava porre una persona al centro dell'attenzione e occuparsi affettuosamente di lei tuttavia bisognava stare molto attenti a non offendere l'amor proprio nella dignità della persona se stare allo scherzo era obbligatorio nel codice mondano era anche obbligatorio difendere la propria dignità ascoltiamo ora la riflessione di Larochouca a proposito di questa difficile arte dello scherzo o della celia la celia è una forma piacevole di gagliezza dello spirito che rallegra la conversazione quando è accattivante è un elemento di coesione altrimenti semina la discordia è un veleno che allo stato puro uccide l'amicizia ed eccita l'odio ma che corretto dalle grazie dello spirito e dall'arte dell'adulazione la conquista e la conserva fin dalle origini della società mondana uno degli argomenti favoriti era l'amore e all'amore e alla psicologia amorosa dedica ampio spazio nei suoi romanzi Mamoiselle de Scuderie nel 1658 nella terza parte di Clélie l'ultimo dei suoi romanzi best seller di grande successo la scrittrice lanciava la moda delle question d'amour che cos'erano le question d'amour erano un passatempo che consisteva nel proporre dei quesiti vale a dire le question di natura amorosa rispondere a questi quesiti significava fare sfoggio di sottigliezza di acume psicologico di prontezza di delicatezza tutti requisiti tipici della cultura mondana di salotto in salotto la moda delle question d'amour avrebbe raggiunto la casa di Madame de Sablé la marchesa era fin da giovane una appassionata casista dell'amore per lei l'amore era una passione necessaria prima di tutto all'uso di mondo e possiamo cogliere questo talento speciale di Madame de Sablé in un ritratto a chiave che ne aveva tracciato proprio mademoiselle de Scuderie sotto lo pseudonimo di princesse de salami mai nessuno ha così perfettamente conosciuto tutte le diverse sfumature dell'amore come la marchesa di Sablé e non so immaginare niente di più piacevole che di sentirle fare la distinzione tra un amore perfettamente puro e uno grossolano e terrestre un amore sincero e uno finto tra un amore interessato e uno eroico perché la riesce a farvi penetrare nel cuore di tutti coloro che ne sono capaci vi dipinge la gelosia in modo più spaventoso di quando la si raffigura con il cuore straziato dai serpenti conosce tutte le dolcezze innocenti dell'amore e tutti i suoi supplizi e conosce così perfettamente tutto ciò che dipende da questa passione che venere e urania non ne sapevano più di lei dopo una giovinezza galante madame de Sablé si era convertita al jansinismo e si era ritirata all'ombra del convento di Port Royal tuttavia non aveva rinunciato a dedicarsi alla vita di mondo e nel suo salotto si discuteva di scienza di filosofia di letteratura di morale di teologia e anche naturalmente di amore nel 1668 si dava lettura di 32 questions sull'amour del marchese di Sourdisse e delle 5 questions d'amour della contessa di Brigitte per capire per capire in cosa consistevano le questions d'amour ascoltiamo i 5 quesiti proposti dalla contessa di Brigitte è meglio è meglio perdere una persona amata a causa della morte o dell'infedeltà una grande gelosia è segno di un grande amore si può amare qualcuno più di se stessi la presenza della persona amata provoca più gioia di quanto la sua indifferenza procuri dolore quale deve essere la scelta di una persona quando il suo cuore inclina da una parte e la sua ragione dall'altra si deve odiare qualcuno che ci piace troppo e a cui non possiamo piacere è più doloroso amare una persona il cui cuore è impegnato o un'altra il cui cuore è insensibile il merito d'essere amati ricompensa il dispiacere di non esserlo le questions d'amour della contessa di Brigitte erano dedicate a Luigi XIV e avevano l'onore di ricevere una risposta del re che aveva ordinato al suo poeta Chinot di rispondere invece sua le questions sur l'amour del marchese di Surtis fornivano invece da spunto alle lettres portugueses de Guierag si trattava di un bellissimo romanzo d'amore un romanzo epistolare costituito da cinque lettere scritte da una religiosa portoghese a un amante che l'aveva abbandonata un grande critico Leo Spitzer ha paragonato queste cinque lettere a cinque atti di una tragedia classica ma un altro capolavoro sarebbe uscito dal salotto di Madame de Sablé vale a dire le massime di La Rochefoucault per alcuni anni Madame de Sablé il duca di La Rochefoucault e il loro amico Jacques Esprit avevano infatti lavorato a un fondo comune di sentenze un fondo che avrebbe raccolto le loro riflessioni sull'uomo sulla sua natura sul suo comportamento sociale poi La Rochefoucault aveva iniziato una sua strada solitaria e nel 1665 aveva pubblicato la sua raccolta di Maxime ma anche in quell'occasione aveva chiesto a Madame de Sablé di aiutarlo nel lancio del libro e gli aveva chiesto la prima recensione con le question d'amour le Maxime le Sentence i mondani scoprivano una letteratura che privilegiava la forma breve che indagava sull'uomo ad altezza d'uomo che investigava sulle sue passioni sulle sue debolezze sulle sue anomalie per poter praticare questa letteratura bastava conoscere il mondo avere penetrazione psicologica essere esercitati nell'autoanalisi tutte attività attitudini tipiche dei mondani che si sarebbero infatti cimentati con massimo diletto in questa nuova forma di letteratura era una letteratura che non puntava mai sull'autorità morale era una letteratura di interrogazione che voleva piuttosto provocare e ottenere delle risposte dei suoi lettori il filo conduttore delle massime di la Rochefoucault era la denunzia dell'amour proprio l'amore di sé che acceca l'uomo che corrompe la ragione che rende illusoria ogni virtù tuttavia la Rochefoucault rimaneva un uomo di mondo e tutte le sue massime non avevano una tonalità tragica per la Rochefoucault la vita era anche commedia e molte delle sue riflessioni obbedivano al puro gioco della provocazione nello scrivere ad esempio quelle sull'amore di cui ascolteremo ora alcuni esempi certamente la Rochefoucault si divertiva a immaginare la reazione indignata delle sue amiche e probabilmente anche di Madame de Sablé davanti ai vecchi luoghi comuni della tradizione misogina in amore chi guarisce per primo è sempre quello che è guarito meglio il vero amore è come l'apparizione degli spiriti tutti ne parlano ma pochi li hanno visti l'austerità delle donne è un ornamento è un belletto di cui si servono come un accessorio per la loro bellezza vi sono poche donne oneste che non siano stanche del loro mestiere il minor difetto delle donne che si sono abbandonate a fare l'amore è di fare l'amore per Talleyrand le conversazioni fra la Rochefoucault Madame de Lafayette e Madame de Sévigny dovevano essere state uno dei momenti più alti della civiltà classica ma la conversazione più famosa sull'amore di tutto il Seicento si tenne certamente un pomeriggio di un sabato del 1650 a casa di Mademoiselle de Scuderie la scrittrice aveva aperto dopo la fronda intorno al 1652 un salotto dove riceveva eruditi critici poeti a differenza del celebre salotto della sua amica Madame de Rambouillet quello di Mademoiselle de Scuderie era un salotto letterario specializzato dove le conversazioni e divertimenti avevano un carattere di sperimentazione letteraria era successo che nel corso della conversazione il critico Pellisson più giovane di Mademoiselle de Scuderie ma suo ammiratore e amico platonico che si freggiava nei giochi letterari del soprannome di Account aveva rivolto alla romanziera la domanda come diventare il suo amico del cuore come ottenere questo titolo ufficiale e Mademoiselle de Scuderie il cui nome letterario era quello di Saffo aveva illustrato in modo figurato sotto forma di viaggio il percorso iniziatico che doveva intraprendere chiunque pretendesse a ottenere il titolo di amico del cuore Pellisson stesso ha raccontato l'origine della più celebre delle allegorie geografiche la famosa carte de tendre la cosiddetta carta del tenero la carta del tenero è considerata il manifesto di quella piccola schiera di donne venute alla ribalta intorno alla metà del seicento che rispondono al nome di preziose essi costituiscono uno dei nodi più intricati della letteratura del seicento chi erano realmente queste preziose di cui Molière farà la satira nella sua celebre commedia le preziose ridicole limitiamoci a dire che le preziose erano delle donne che si davano un prezzo vale a dire che coltivavano un'alta idea di sé e di quello che era loro dovuto e esigevano rispetto da parte dei loro contemporanei per la prima volta la condizione femminile diventava oggetto di una riflessione da parte delle donne non erano più gli uomini a interpretare a dirigere l'altro sesso ma erano le donne a dichiarare ad alta voce ciò che volevano e ciò che si aspettavano dagli altri le preziose insorgevano contro i matrimoni imposti contro le maternità non volute contro una sessualità incompatibile con la delicatezza e con il pudore contro un linguaggio grossolano e irrispettoso non per questo bisognava rinunciare all'amore ma l'amore doveva purificarsi sublimarsi e assumere la forma di una amicizia delicata molte delle loro richieste riflettevano le esigenze della società mondana ma le preziose forzando le convenzioni mondane si esponevano alla satira quello che ascoltiamo ora è un giudizio di Saint-Evremont lo scrittore libertino amico di Nenon de l'Anclos esiliato a Londra mette a fuoco quello che a suo giudizio è l'errore fondamentale delle preziose mostra come la concezione dell'amore di questo gruppo di femministe ante litteram preferisca l'astrazione alla pienezza della vita queste false delicate hanno tolto all'amore ciò che ha di più naturale pensando di conferirgli qualcosa di più prezioso hanno trasferito una passione sensibile dal cuore allo spirito e convertito degli affetti in idee questo grande processo di purificazione ha tratto origine da un onesto disgusto della sensualità ma così facendo si sono allontanate non meno delle voluttuose dalla vera natura dell'amore perché l'amore non ha a che fare né con la speculazione della mente né con la brutalità dell'appetito fin dalle sue origini la cultura mondana aveva messo la letteratura al centro dei suoi svaghi non solo i mondani avevano incoraggiato gli scrittori professionisti a scrivere per loro dando la preferenza ai romanzi al teatro alle poesie di qualsiasi genere se fossero ma i mondani stessi si erano misurati con la scrittura come dilettanti la letteratura che prediligevano era una letteratura legata all'espressione dell'io la memorialistica la scrittura epistolare e la letteratura aforistica ma questi dilettanti avrebbero dato luogo a alcuni grandi capolavori basti ricordare le memorie del cardinale di Rez le massime del duca di La Rochoucault la principessa di Cleve della contessa di Lafayette e il grande epistolario di Madame de Sévigny i mondani lanciavano dunque tutta una serie di generi letterari considerati fino allora minori ma destinati a un grande avvenire nella letteratura francese moderna questa sera parleremo di un genere letterario nuovo nato proprio in quel contesto che è quello del ritratto mondano come al solito era stata Mademoiselle de Schuderie a lanciare il gioco in Cléry l'ultimo suo romanzo apparso fra il 1654 e il 1660 il romanzo era disseminato volume dopo volume da una serie di ritratti a chiave del bel mondo parigino ora riconoscere gli originali sotto i nomi romani che avevano ispirato i ritratti era diventato un gioco collettivo di tutta la società parigina e ottenere il proprio ritratto a chiave di Clély era diventata una ambizione diffusa in una società così consapevole del proprio apparire contemplarsi nelle parole dell'altro non era soltanto un piacere narcisistico significava verificare la propria immagine riflessa in uno specchio verificare la capacità di interpretare il proprio personaggio dunque il gioco del ritratto passava dalle mani degli scrittori in quelle dei protagonisti della vita mondana fra gli esempi più famosi incontriamo quello della Gran Moselle nel 1658 la cugina di Luigi XIV avrebbe giocato al gioco del ritratto con tutta la sua piccola corte di residenza in residenza e alla fine questo gioco collettivo sarebbe approdato in una raccolta in una raccolta di 58 ritratti la raccolta della Gran Moselle per l'appunto dove possiamo vedere rappresentati tutti i rappresentanti dell'altra società ma di questi 58 ritratti noi ne leggeremo uno solo probabilmente il più bello il ritratto fatto da Madame de Lafayette che aveva allora 20 anni e che non aveva ancora scritto la principessa di Cleve a Madame de Sévigny che ne aveva allora 34 è la sola opera firmata della grande romanziera e rappresenta Madame de Sévigny nella piena naturalezza nella piena sapienza del suo talento mondano la vostra presenza aumenta i divertimenti e i divertimenti aumentano la vostra bellezza quando vi fanno corona la gioia insomma è la vera condizione della vostra anima e niente vi è più estraneo che l'afflizione quando vi animate conversando liberamente tutto ciò che dite ha una tale seduzione e vi si addice così perfettamente che le vostre parole attirano intorno a voi le risa e le grazie e lo sfaviglio del vostro spirito conferisce una tale luminosità al vostro colorito e ai vostri occhi che per quanto sembri che lo spirito tocchi solo l'udito non v'è dubbio che il vostro abbaglia la vista siete per natura la persona più affabile e cortese del mondo tutto ciò che fate dà un'impressione di spontaneità e di dolcezza e sulle vostre labbra i più semplici complimenti dettati dall'educazione paiono delle assicurazioni d'amicizia tutti quelli che si accommiatano da voi se ne vanno persuasi della vostra stima e della vostra benevolenza senza potersi dire con precisione quali segni tangibili abbiate dato loro dell'una e dell'altra il ritratto mondano aveva come obiettivo oltre a quello di divertire quello di adulare di esaltare di mettere in valore la persona ritrattata ma poteva anche avere gli obiettivi opposti poteva denigrare ridicolizzare smascherare e soltanto un anno dopo la pubblicazione della raccolta di ritratti della grande mademoiselle nel 1659 il conte di Bussira Butin trasformava il gioco del ritratto in un'arma micidiale Bussira Butin si divertiva a fare il ritratto a chiave di una serie di dame del mondo di cui denunciava gli amori le ipocrisie e i vizi fra questi ritratti che verranno pubblicati poi sotto il nome di storia della gallia galante fra questi ritratti vi era anche il ritratto di sua cugina madame de Sevigny all'origine di questo ritratto vi era un vecchio regolamento di conti Bussi provava per madame de Sevigny un rancore sopito ma mai dimenticato per un prestito mancato e Bussi Rabutin decideva di vendicarsi attaccando la cugina su due punti in cui madame de Sevigny appariva in realtà inattaccabile lo spirito e la virtù non vi è donna in Francia che abbia più spirito e pochissime che ne hanno quanto lei è vivace e divertente c'è chi dice che per essere una donna di qualità indulge un po' troppo allo scherzo all'epoca in cui la vedevo questo giudizio mi pareva un po' ridicolo ed ammiravo la sua verve burlesca pensando che fosse allegria ma oggi che ho smesso di vederla e che il suo grande fuoco non mi abbaglia più concordo sul fatto che vuole essere troppo divertente con tutto questo fuoco non è strano che il suo discernimento sia mediocre perché le due cose sono generalmente incompatibili e la natura non ha fatto eccezione per lei ai suoi occhi uno sciocco vivace avrà sempre la meglio su un uomo serio e a caccia di allegria la più grande prova di intelligenza che le si possa dare è mostrarle ammirazione per lei ama essere incensata ama essere amata e per questo adula per poi essere adulata e le sue preferenze vanno agli uomini quale che sia la loro età la loro nascita il loro merito la loro professione le va tutto bene dal manto reale alla tonaca dallo scettro al calamaio il suo defunto marito diceva che tutto il suo ardore era di testa e che invece i suoi sensi erano freddi nella qual cosa vedeva una garanzia di virtù e in verità se ci si riferisce alle azioni la fede coniugale non è stata effettivamente violata ma se si considerano le intenzioni l'affare cambia per essere franchi credo che suo marito se l'è cavata agli occhi degli uomini ma che sia cornuto davanti a dio dopo aver circolato a manoscritto insieme a una serie di altri ritratti che smascheravano vizi e difetti delle dame del gran mondo si arrivava a un'edizione pirata della raccolta di Bussi Rabutin sotto il titolo di storia amorosa delle gallie la pubblicazione suscitava un enorme scandalo perché il quadro che ne derivava della corte di Francia era tutt'altro che edificante e Bussi Rabutin veniva condannato all'esilio al momento della pubblicazione tuttavia anche madame de Sévigny poteva leggere il ritratto il suo ritratto di cui aveva sentito tanto parlare la lettera che ascolteremo è per l'appunto scritta da madame de Sévigny a suo cugino Bussi Rabutin dopo questa fatale lettura anche nell'indignazione lo stile della marchesa è irresistibile ho letto e riletto quel crudele ritratto l'avrei trovato molto carino se non ne fossi stata io il soggetto e voi l'autore l'ho anche trovato così ben incastonato e così al suo posto nel libro che non ho avuto la consolazione di illudermi che potesse essere di qualcun altro l'ho identificato sulla base delle varie cose che me ne avevano detto piuttosto che dalla pittura dei miei sentimenti in cui non mi riconosco minimamente essere nelle mani di tutti vedersi pubblicata costituire il divertimento di tutte le province dove questo genere di cose comporta un danno irreparabile ritrovarsi nelle biblioteche e ricevere questo dolore da chi non voglio illustrarvi oltre tutte le mie ragioni fra i 58 ritratti e autoritratti che formavano la raccolta della Gramma Moselle il ritratto più incantevole è scritto da una bambina in un'epoca in cui come dirà Molière l'infanzia non sembra esistere ecco una bambina di 5 anni avanzare sul proscenio presentarsi e parlare di sé le sue preoccupazioni sono ancora quelle tipiche della sua infanzia ama i suoi genitori e la fede in Dio è intatta ma ha già imparato a analizzarsi a conoscersi avere piena consapevolezza di sé a essere quasi pronta a entrare in quella società mondana in cui ogni gesto ogni parola è analizzato nel dettaglio ho gli occhi neri un po' piccoli l'ovale del viso rotondo la fronte troppo grande il naso un po' schiacciato le sopracciglia ben disegnate la bocca assai carina il mento con una fossetta è un po' quadrato la carnagione molto bianca dopo essermi ben lavata la testa un tantino grossa ma che si rimpicciolisce poco a poco i capelli di un bel colore è assai fini la figura un po' spessa ho più spirito che giudizio mi piace di più dare che ricevere il mio umore è estremamente dolce però a volte sono un po' stizzosa faccio molte lemosine mi piace molto leggere e soprattutto la parola di Dio amo molto i miei genitori non sono affatto golosa a dire il vero sono un po' paurosa mi piace giocare divertirmi correre mi piace fare qualcosa e odio non far niente so mantenere il segreto amo molto quelli che mi servono non amo quelli che mentono e mi detesto quando ho mentito la compagnia che preferisco è quella dei miei genitori non sono vanitosa non sarò mai civetta non mi piace picchiare né essere picchiata non sono collerica ma sono un po' troppo viva temo molto Dio amo molto fare la sua volontà e spero che mi benedirà il gioco dei ritratti avrebbe continuato anche nel settecento come intrattenimento della civiltà mondana e avrebbe trovato in Madame du Défant un'artista accreditata celebre per il suo salotto intellettuale per il suo bellissimo epistolario Madame du Défant ci ha lasciato anche trenta ritratti in cui ci presenta amici e conoscenti che hanno composto la sua cerchia in lei la scienza psicologica si accompagna a uno sguardo implacabile e il suo leggendario spirito può anche dare luogo a una satira feroce la miscela evidente di questi elementi compare nel ritratto di Madame du Châtelet la bella Emilia l'amante ufficiale di Voltaire morta giovane nel 1749 il ritratto è scritto qualche anno prima della morte della Marchesa e tutto ciò che fa di lei un essere di eccezione la sua grande cultura scientifica e la traduttrice di Newton la sua passione intellettuale il suo legame con lo scrittore più famoso del tempo la sua spregiudicatezza di grande aristocratica la sua passione per il teatro e il suo talento di attrice tutto questo diventa nel ritratto di Madame du Défant una serie di occasioni di ridicolo immaginatevi una donna alta e secca col colorito acceso il viso affilato il naso appuntito ecco l'aspetto della belle Emilia aspetto di cui lei è così soddisfatta che non trascura niente per metterlo in risalto ricci pompon bigiotterie di pietre e di vetro tutto a profusione ma poiché vuole essere bella a dispetto della natura e vuole essere magnifica a dispetto della fortuna è costretta per procurarsi il superfluo rinunciare al necessario come le camice e le altre inezie è provvista di un certo spirito il desiderio di farne maggior sfoggio le ha fatto preferire lo studio delle scienze più astratte alle materie più piacevoli pensa che questa singolarità le procuri una reputazione maggiore e una netta superiorità su tutte le donne non si è limitata a questa ambizione ha voluto essere principessa e lo è diventata non per grazia di Dio o per quella del re ma per grazia propria questa ridicola mania le è passata come le altre ci si è abituati a considerarla come una principessa di teatro e ci si è quasi dimenticati che si tratta di una donna di rango madame è così intenta sembrare quello che non è che non si sa più quello che è veramente non le sono naturali forse neanche difetti potrebbero dipendere dalle sue pretese la mancanza di riguardi dalla sua condizione di principessa l'aredità da quella di studiosa e la stolidezza da quella di bella donna per quanto celebre madame du Chatelet non si riputerebbe soddisfatta se non venisse celebrata ed ha ottenuto anche questo diventando l'amica ufficiale di Voltaire è lui a dare lustro alla sua vita ed è a lui che dovrà l'immortalità non meno feroce è il ritratto che di madame du Défant farà sua nipote Julie de l'Espinas che dopo un legame simbiotico di dieci anni verrà cacciata senza pietà dalla casa di sua zia per dei motivi di gelosia di rivalità mondana tutto l'acume psicologico lo spirito di osservazione di mademoiselle de l'Espinas è qui al servizio di una feroce resa dei conti ascoltando questo testo possiamo constatare come l'arte mondana insegnasse a odiare con la stessa eleganza con lo stesso stile con cui ci si sforzava di piacere fra le diverse qualità gradevoli del suo spirito venne una fondamentale essenziale per piacere tuttavia assai rara quella di essere spontanea e naturale non può sopportare l'affettazione di qualsiasi genere essa sia è sensibilissima ridicolo che avverte e dipinge con molta efficacia non è gelosa né delle attrattive né dello spirito degli altri ma soltanto delle preferenze e delle attenzioni che non perdona né a coloro che le danno né a coloro che le ricevono sembra dire a tutti i suoi conoscenti come Gesù ai suoi discepoli vendete tutto quello che avete e seguitemi è più difficile essere in pace con lei che con Dio un peccato veniale annulla in un attimo il merito di parecchi anni di premure questa è Madame Duttefan il suo spirito deve far desiderare di conoscerla la fa ricercare ed è solo al suo spirito che deve il genere di considerazione di cui gode la conoscenza del suo carattere fa sì che ci si allontani da lei e impedisca che ci si affezioni sconsiderata indiscreta egoista abbietta con quelli che sono al di sopra di lei abbastanza giusta con gli inferiori insopportabile e tirannica con i suoi uguali così non può illudersi di avere un vero amico fra tutte le sue numerosissime conoscenze ed è piena di spirito e di prevenzioni capricciosa e ingiusta in conclusione Madame Duttefan è una bambina cattiva che tuttavia non è stata per nulla viziata è il suo carattere che ha fatto l'infelicità della sua vita fra le tante dame francesi del settecento che hanno brillato per cultura spirito intelligenza certamente Marie de Vichy Marchesa di Dufan viene per prima è a lei e alla sua amicizia con Voltaire che dedicheremo la trasmissione di questa sera perché è nel loro scambio epistolare che la conversazione dei lumi raggiunge uno dei suoi momenti più intensi dopo una giovinezza spregiudicata e galante Madame Duttefan aveva aperto un salotto frequentato dalla più grande aristocrazia del suo tempo da intellettuali artisti e visitatori stranieri importanti la grande attrattiva del salotto era innanzitutto la padrona di casa ed è in una lettera di un suo amico il marchese du Châtel che possiamo cogliere l'impressione viva della seduzione mondana di Madame Duttefan in azione siete fatta per cogliere la natura di slancio e come la natura siete atta a creare voi siete incapace di imitare se si trattasse di eseguire delle commedie improvvisando allora sì che bisognerebbe rivolgersi a voi ho provato spesso questo piacere accanto al vostro caminetto lì siete mirabile che varietà che contrasto nel sentimento nel carattere nel modo di pensare che innocenza che forza e che precisione pur nella passione non manca niente c'è da diventare pazzo di piacere d'attesa e di ammirazione siete impagabile per uno spettatore filosofo 25 anni dopo sarà la figlia del marchese di Châtel la duchessa di Choiseul moglie del potentissimo ministro di Luigi XV a esprimere a Madame du Défant tutta la sua ammirazione quella che sentiamo è una lettera del 1767 è impossibile avere più spirito di voi e di averlo più costante più spontaneo più pronto avere più immaginazione fuoco forza grazia di quante ne avete voi dicendo forza e grazia si dice la stessa cosa perché è la forza a conferire la naturalezza e la naturalezza a conferire la pertinenza la precisione la giusta misura il mio desiderio più vero e più caro sarebbe di passare con voi la sera di questa giornata tempestosa che chiamano vita vi ho visto nel vostro brillante mattino e mi sarebbe molto dolce poter contribuire alla vostra consolazione e intrattenermi liberamente con voi in questi momenti così brevi che ci restano e dopo i quali non c'è nessun altro momento non so troppo bene cosa succederà di me e non me ne do pensiero ma siete certa signora che siete la persona al mondo per cui nutro il rispetto più tenero e l'amicizia più inalterabile tuttavia questa dama del bel mondo non incarna soltanto l'aspetto più brillante del settecento il culto dell'intelligenza la sovranità del gusto il senso della naturalezza Madame du Defant è anche la più illustre rappresentante della malattia che affligge il mondo dei privilegiati vale a dire della noia se nel settecento si ha così bisogno di vivere in compagnia se la vita di società è diventata una necessità irrinunciabile questo dipende anche dal fatto che la solitudine spaventa e che le risorse della vita interiore si vanno assottigliando sempre di più in Madame du Defant questa malattia dell'anima si aggrava con il sopraggiungere della cecità Madame du Defant ha superato la cinquantina e affronta con dignità la prova terribile che la cecità comporta ma nell'informare di quanto gli è successo l'amico Voltaire l'amico di tutta una vita Madame du Defant non riesce a nascondere il suo vero stato d'animo la risposta di Voltaire è vibrante di simpatia e di solidarietà è stata scritta nel marzo del 1754 la vostra lettera signora mi ha commosso più di quanto possiate pensare e vi assicuro che i miei occhi si sono un po' inumiditi leggendo quel che è successo ai vostri dalla lettera di Formaux avevo pensato che la vostra condizione fosse quella di chi si trova sull'imbrunire e non in piena notte dunque signora rimpiangevo nei vostri occhi solo la perdita della vostra bellezza e vi sapevo anche abbastanza filosofo da consolarvene ma se avete perso la vista vi compatisco infinitamente sono d'accordo con voi la vita non serve a un granché la sopportiamo solo con la forza di un istinto quasi invincibile che ci è dato dalla natura a quest'istinto essa ha poi aggiunto il fondo del vaso di Pandora la speranza e quando ci viene meno questa speranza o ci assale una malinconia insopportabile che si trionfa di quell'istinto che ci fa amare le catete della vita e si ha il coraggio di uscire da una casa mal costruita che si dispera di poter riaggiustare per aiutare Madame du Défant a combattere la noia che la opprime Voltaire fa appello all'intelligenza dell'amica la incoraggia a scrivere i suoi pensieri a discuterli con lui è un invito a confrontarsi da pari a pari con l'intellettuale più importante dell'epoca è una sorta di iniziazione ma la reazione di Madame du Défant è di assoluta ripulsa mi dite che volete che vi faccia partecipe delle mie riflessioni ah signore cosa mai mi chiedete esse si limitano a una sola è assai triste che a veder bene esiste una sola disgrazia nella vita quella di essere nati non c'è condizione quale che possa essere che in mi paia preferibile al niente e voi stesso che siete Voltaire nome che racchiude ogni possibile felicità reputazione considerazione celebrità tutti gli antidoti contro la noia che trovate in voi ogni possibile risorsa una filosofia benintesa che vi ha fatto prevedere che in vecchiaia il benessere era necessario ebbene signore nonostante tutti questi vantaggi meglio sarebbe non essere nati perché bisogna morire perché se ne ha la certezza e perché la natura vi ripugna la negatività di Madame du Défant è così assoluta da costringere Voltaire a darle delle risposte sul destino esistenziale dell'uomo fra le più precise di tutta la sua opera Il tono della lettera che stiamo per ascoltare è giocoso e mondano ma il contenuto è altamente drammatico Conosco solo Giuda di cui si sia detto che meglio sarebbe stato per lui di non essere nato ed è il Vangelo a dirlo Mecenate e La Fontaine hanno detto tutto il contrario meglio vale soffrire che morire è questo il motto degli uomini Non che il nulla non abbia qualcosa di buono ma io credo che sia impossibile amare veramente il nulla nonostante le sue buone qualità Quanto alla morte ragioniamo un po' ve ne prego è assolutamente certo che non la si sente affatto non è un momento doloroso somiglia al sonno come due gocce d'acqua è soltanto l'idea di non svegliarsi più che dà dolore Orribile è l'apparato della morte è la barbarie dell'estrema unzione è la crudeltà di avvertirci che per noi tutto è finito a che scopo venire a pronunziare la nostra sentenza sarà eseguita anche senza che si intromettano notai e preti bisogna scrivere per tempo il proprio testamento e poi non pensarci più si dice qualche volta di un uomo che è morto come un cane ma veramente un cane è fortunatissimo di morire senza quell'abominevole armamentario con cui si perseguita l'ultimo momento della nostra vita se avessero un po' di carità per noi ci lascerebbero morire senza dirci niente il solo piacere della vita a Ginevra è che vi si può morire come si vuole molte persone da bene non chiamano affatto i preti se uno vuole si ammazza senza che nessuno ci trovi niente da ridire oppure si aspetta il momento senza che nessuno ti dia noia il razionalismo il razionalismo di Voltaire il suo rifiuto di ogni metafisica non convincono Madame du Défant che nella lettera di risposta che ascolteremo ribadisce il suo male di vivere sotto il segno angoscioso della morte un altro punto della mia lettera che avete inteso male è dove vi dicevo che la più grande di tutte le disgrazie è di essere nati sono persuasa di questa verità che non vale soltanto per Giuda Giobbe e me ma anche per voi ma anche per la defunta Madame de Pompadour per tutti quelli che sono stati per tutti quelli che sono e per tutti quelli che saranno vivere senza amare la vita non ne fa desiderare la fine e non diminuisce nemmeno il timore di perderla voi non sapete e non potete saperlo personalmente quale sia la condizione di chi pensa riflette svolge qualche attività ed è al tempo stesso senza talento senza passione senza occupazione senza svago di chi ha avuto degli amici e li ha persi senza poterli sostituire aggiungete a questo una certa sensibilità nel gusto un po' di discernimento molto amore per la verità cavate gli occhi a queste persone e mettetele nel centro di Parigi di Pechino insomma dove volete voi e vi assicuro che sarebbe meglio per loro non essere nati tutti i mali fisici per quanto grandi essi siano ad eccezione delle sofferenze rattristano e abbattono l'animo meno del dispiacere che ci viene dal contatto e dalla compagnia degli uomini vi sorprenderei se vi confessassi che di tutte le mie pene la cicità e la vecchiaia sono le minori forse ne dedurrete che non ho una testa che funziona ma non date nella colpa a me se non volete cadere in contraddizione con voi stesso mi avete scritto in una delle vostre ultime lettere che non siamo padroni dei nostri affetti dei nostri sentimenti delle nostre azioni del nostro contegno del nostro modo di camminare più di quanto non lo siamo dei nostri sogni avete ragione e niente è così vero che conclusione trarre da tutto questo niente e mille volte niente bisogna finire la propria carriera vegetando quanto più è possibile abbiate cura della vostra salute signore mi sembra che siate felice addolcite le mie disgrazie con l'assicurarmi della vostra amicizia e col piacere che mi procurano le vostre lettere quello che si è instaurato fra Madame du Défant e Voltaire è un vero e proprio dialogo filosofico a stretto giro di posta una settimana dopo il 29 maggio 1764 il patriarca dei Lumi deponendo le sue molteplici maschere e venendo allo scoperto espone all'amica il suo modo di affrontare la vita di accettare la morte e soprattutto il suo senso della dignità umana mi fate una grandissima pena signora perché le vostre tristi idee non sono solo il frutto del ragionare ma anche del sentire sono d'accordo con voi che il nulla è parlando in generale preferibile alla vita il nulla ha del buono consoliamoci lo saggeremo è ben chiaro che dopo la nostra morte torneremo a essere quello che eravamo prima di nascere ma che ne faremo dei due o tre minuti della nostra esistenza siamo piccole ruote della grande macchina piccoli animali con due piedi e due mani come le scimmie meno agili di loro altrettanto comici e con un'ampiezza di idee più basta obbediamo tutti al movimento generale impresso dalla natura non diamo niente a noi stessi riceviamo tutto non siamo padroni delle nostre idee più di quanto lo siamo della circolazione del sangue nelle nostre vene ogni essere ogni modo di essere obbedisce necessariamente alla legge generale è ridicolo è impossibile che l'uomo si dia qualche cosa quando la folla degli astri non lo può e che fossimo liberi nel senso dei teologi quando l'universo è schiavo una condizione proprio da cani direte voi io soffro mi dibatto contro la mia esistenza che maledico e che amo odio la vita e la morte chi mi consolerà chi mi sosterrà la natura intera è impotente a darmi sollievo ecco qui signora quello che immagino non è di peso né da voi né da me perdere la vista essere privati dei nostri amici essere nella situazione in cui ci troviamo tutte le vostre privazioni tutti i vostri sentimenti tutte le vostre idee sono cose assolutamente necessarie non potevate impedirvi di scrivermi la lettera così filosofica e così triste che ho ricevuto da voi e io necessariamente vi scrivo che il coraggio la rassegnazione alle leggi della natura il profondo disprezzo per tutte le superstizioni il nobile piacere di sentirsi di una diversa natura dagli sciocchi l'esercizio della facoltà di pensare sono delle consolazioni autentiche questa idea che ero destinato a esporvi richiama necessariamente in voi la vostra filosofia divento uno strumento che rafforza un altro dal quale sarò rafforzato a mia volta fortunate le macchine che possono aiutarsi tra di loro la vostra macchina è una delle migliori del mondo non è forse vero che se doveste scegliere fra la luce e il pensiero non esitereste e preferireste gli occhi dell'anima a quelli del corpo ho sempre desiderato che voi detaste il vostro modo di vedere le cose e me ne faceste participe perché vedete molto bene e altrettanto bene sapete rappresentare l'ottimismo della ragione non ha nessuna presa sul pessimismo esistenziale di Madame du Défant la lettera che ascolteremo ora svela l'altro volto spesso dimenticato della cultura dei lumi una cultura che può essere profondamente antifilosofica antilluminista no signore io non preferirei il pensiero alla luce gli occhi dell'anima a quelli del corpo acconsentirei piuttosto a una cecità assoluta tutte le mie osservazioni mi inducono a credere che meno si pensa meno si riflette più si è felice lo so perfino per esperienza quando si è avuto una grave malattia quando si sono patiti dei grandi dolori lo stato in cui ci si trova nella convalescenza è uno stato molto felice non si desidera niente non si fa niente solo il riposo è necessario mi sono trovata in questa situazione ne sentivo tutti i vantaggi e avrei voluto restarvi per tutta la vita tutti i ragionamenti che mi fate sono eccellenti non c'è una parola che non sia assolutamente vera bisogna rassegnarsi a seguire il nostro destino nell'ordine generale e pensare come dite che la parte che vi rappresentiamo dura solo qualche minuto se per metterci al di sopra di tutto dovessimo solo difenderci dalla superstizione saremmo molto fortunati ma bisogna vivere con gli uomini vogliamo la loro considerazione desideriamo trovare in loro buonsenso giustizia benevolenza franchezza e invece in essi troviamo tutti i difetti e i vizi opposti voi non potrete mai sapere che cosa sia l'infelicità e come vi ho già detto chi ha molta intelligenza e molto talento può trovare grandi risorse in se stesso bisogna essere volterre o vegetare che piacere potrei trovare a mettere per iscritto i miei pensieri servono solo a tormentarmi e questo soddisferebbe poco la mia vanità davanti a questo rifiuto totale del valore della ragione voltaire insorge come si può negare all'uomo la sua vera ragione d'essere la sua risposta a madame di defant è appassionata e vibrante di indignazione noi abbiamo signora un grande argomento da trattare che poi è la felicità o almeno l'essere il meno infelici possibile in questo mondo non posso sopportare che mi diciate che più si pensa più si è infelici questo è vero per la gente che pensa male non parlo di chi pensa male del prossimo che a volte può essere molto divertente ma di chi pensa tutto di traverso costoro vanno senza dubbio compatiti perché soffrono di una malattia dell'anima e ogni malattia è una condizione triste ma voi la cui anima sta come meglio non potrebbe sentite ve ne prego quel che dovete la natura non è dunque niente essere guarita dagli infelici pregiudizi che mettono alla catena la maggior parte degli uomini e soprattutto delle donne non mettere la propria anima nelle mani di un ciarlatano non disonorare il proprio essere con paure e superstizioni indegne di un essere pensante godere di un'indipendenza che vi libera dalla necessità di essere ipocrita non dover fare la corte a nessuno e poter aprire liberamente il proprio animo agli amici ne avete alcuni che sono degni di voi la dolcezza e la sicurezza della conversazione è un piacere altrettanto reale di quello di un appuntamento quando si è giovani mangiate bene abbiate cura della vostra salute qualche volta divertitevi a dettare le vostre idee per confrontare quello che pensavate ieri con quello che pensate oggi proverete due grandissimi piaceri di vivere con la migliore compagnia di Parigi e di vivere con voi stessa vi sfido a immaginare qualcosa di meglio ma anche l'eroquenza trascinante del massimo campione dei lumi si rivela impotente davanti al lucido pessimismo di Madame du Defant è lei ad avere l'ultima parola ed è una parola di rassegnazione non parliamo più della felicità è la pietra filosofale che rovina chi la cerca non ci si rende felici per sistema la sola buona ricetta che io conosca per trovare la felicità è quella di una mia prozia prendere il tempo come viene e la gente com'è aggiungerei anche un'altra cosa che mi sembra più necessaria essere in buoni rapporti con se stessi riprendiamo questa sera il tema della conversazione che ha costituito il filo conduttore di quell'arte del vivere francese di cui stiamo facendo la storia ed è a una delle sue ultime interpreti Germaine Necker poi baronessa di Stahl che ci affidiamo per capire la centralità della conversazione nella società francese d'antico regime ecco che cosa scrive Madame de Stahl nel suo celebre libro dell'Allemagne scritto dopo la rivoluzione mi sembra che tutti convengano che Parigi è la città al mondo dove il gusto e lo spirito della conversazione sono più generalmente diffusi e quel che si chiama nostalgia del paese quel rimpianto indefinibile della patria che è indipendente dagli amici stessi che vi si sono lasciati si applica in particolar modo a quel piacere di conversare che i francesi non ritrovano più da nessuna parte come da loro Volnay racconta di certi francesi emigrati che durante la rivoluzione volevano fondare una colonia e dissodare delle terre in America ma di tanto in tanto lasciavano tutte le loro occupazioni per andare dicevano a conversare in città e questa città la Nouvelle Orléans si trovava a 600 leghe dalle loro case in Francia il bisogno di conversare è comune a tutte le classi sociali qui la parola non è come altrove soltanto un mezzo per comunicarsi idee sentimenti affari è uno strumento che la gente ama suonare e che rianima gli spiriti come fa la musica per taluni popoli e i liquori forti per qualche altro erano ormai passati due secoli da quando la civiltà della conversazione aveva preso l'avvio nell'hotel de Rambouillet da allora generazione dopo generazione i protagonisti stessi di quest'arte avevano fatto a gara per definirla il primo imperativo essenziale lo ricordiamo era mettersi in sintonia con l'interlocutore intuirne il pensiero per meglio sedurlo ed è Madame de Sévigné la regina della conversazione epistolare a dirci quanto grande fosse questo piacere in una lettera al cugino Bussi Rabutin del maggio 1672 sapete bene signor Conte che una volta avevamo il dono di capirci prima ancora di aver parlato ciascuno dei due rispondeva perfettamente a ciò che l'altro aveva voglia di dire e se non avessimo voluto concederci il piacere di pronunziare con una certa facilità delle parole la nostra intelligenza reciproca avrebbe quasi tenuto luogo di conversazione quando ci si è capiti così bene non si può mai diventare pesanti per me è davvero una bella cosa capire al volo è segno di una vivacità gradevole e di cui l'amor proprio è infinitamente grato Monsieur de la Roche Foucault dice il vero nelle sue Maxime amiamo di più coloro che ci capiscono bene che quelli che si fanno ascoltare dobbiamo amarci nello stesso modo per esserci sempre così intesi per essere pienamente convincente la conversazione doveva però tener conto anche dell'efficacia dello sguardo dei gesti dell'espressione del viso e naturalmente del tono della musicalità della voce ecco come il Cavaliere di Meret lo dava la straordinaria musicalità della voce della sua amica Madame de Lédiger in una lettera a lei indirizzata datata intorno al 1650 ciò che mi piace ed ammiro quando vi lanciate in un discorso senza interrompervi è il vostro modo di incominciare sempre con il tono che più si conviene per farvi capire di mutarlo a seconda delle cose che dovete dire e di trovare al momento giusto l'espressione migliore e la perfetta concatenazione delle parole di sorta che mai niente fu concertato in maniera più gradevole di tutto ciò che si nota nei vostri discorsi questa differenza di tono non dipende tanto dal modo di alzare o abbassare la voce quanto dal servirse in una maniera impercettibile eppure conforme a ciò che avviene nel cuore bisogna sapere molto bene ciò che si conviene per servirsi di queste intonazioni con la grazia necessaria questa scienza è complessa e sono poche le persone che l'hanno imparata alla perfezione essa dipende dal gusto dall'intelligenza o piuttosto da una giustezza di sentimenti senza la quale non si potrebbe essere buoni attori in questo mondo ma già un illustre amico di Meret Blaise Pascal che aveva avuto esperienza della vita mondana prima di ritirarsi a Port Royale pur riconoscendo la funzione cognitiva della conversazione ne denunziava al tempo stesso il potere altamente corruttore ci si forma l'intelletto e il sentimento con le conversazioni ci si rovina l'intelletto e il sentimento con le conversazioni così le buone o le cattive li formano o li rovinano è dunque estremamente importante saper scegliere bene per formarli e per non rovinarli ma non si può fare questa scelta se non li si ha già formati e non rovinati così questo forma un cerchio da cui sono fortunati quelli che ne escono non era solo il nome dei valori religiosi che la conversazione mondana veniva messa sotto accusa a cominciare dallo stesso Molière nel Misanthrop e poi con la Rochefoucault e con la Brouillère l'utopia mondana andava infatti rivelando le sue ambiguità e i suoi fallimenti nel suo celebre romanzo I turbamenti del cuore dello spirito del 1736 Crebion Fiss denunziava per bocca del libertino Versac il carattere profondamente inautentico della società mondana dei tempi della regenza dovete imparare a dissimulare così perfettamente il vostro carattere da rendere vano ogni tentativo di indovinarlo bisogna inoltre che aggiungiate all'arte di ingannare gli altri quella di penetrare i loro segreti che cerchiate sempre di scoprire ciò che realmente sono al di là di quello che vogliono sembrarvi spesso è meglio dare una cattiva opinione della nostra intelligenza che rivelarne la piena portata nascondere sotto un'area sbadata e stolida l'inclinazione che vi porta a riflettere e sacrificare l'amicizia all'interesse e avendo l'aria di lasciarsi andare all'impertinenza che non sfugge niente di quella degli altri disprezzo il bon ton del bel mondo ma l'ho adottato dovete esservi accorto che non oso parlare con nessuno come sto facendo con voi e se vi ho pregato di mantenere su tutto ciò che vi dirò un segreto inviolabile è perché è di estrema importanza per me che non si sappia chi io sia e fino a che punto mi travesta vi consiglio ancora una volta di imitarmi senza questa condiscendenza non acquisirete che la reputazione di una persona dura e inadatta alla vita di società più vi rifiuterete di prestarvi alle stravaganze più si affretteranno ad attribuirvene non sono il solo ad essermi accorto che per non passare per ridicolo bisogna diventarlo o almeno sembrarlo ma a sferrare l'attacco più micidiale contro la conversazione mondana giunta al culmine del suo splendore a metà del settecento sarebbe stato Jean-Jacques Rousseau nella Nouvelle Eloise ascoltiamo una lettera del protagonista Saint Preux a Julie rimasta in Svizzera a tutta prima si rimane incantati dinnanzi al sapere e dalla ragionevolezza che contraddistinguono i discorsi non solo dei dotti e dei letterati ma degli uomini di tutte le condizioni e persino delle donne il tono della conversazione è disinvolto e naturale non è né pesante né frivolo è colto senza pedanteria gaio senza fastuono cortese senza affettazione galante senza melensagine scherzoso senza equivoci non c'è posto né per dissertazioni né per epigrammi vi si ragiona senza argomentare vi si scherza senza giochi di parole vi si calibrano con arte lo spirito e la ragione le massime e le battute la satira spinta la durazione accorta e la morale austera si parla di tutto perché ciascuno abbia qualcosa da dire non si approfondiscono gli argomenti per paura di annoiare si tratta con rapidità la precisione porta all'eleganza ciascuno dice il suo parere e lo spiega in poche parole nessuno attacca con foga quello degli altri si discute per fare chiarezza ci si ferma prima di arrivare alla disputa ognuno si istruisce ognuno si diverte tutti se ne vanno contenti e persino il saggio può ricavare da questi incontri degli argomenti degni di essere meditati in silenzio ma in fondo cosa si impara da queste conversazioni così affascinanti a giudicare giustamente delle cose del mondo a fare buon uso della società a conoscere almeno la gente con cui viviamo niente di tutto questo mia Giulia vi si impara per orare con arte la causa della menzogna a scardinare a forza di filosofia tutti i fondamenti della virtù a giustificare con sottili sofismi le proprie passioni e i propri pregiudizi così gli uomini a cui si parla non sono quelli con cui si conversa i loro sentimenti non sgorgano dal loro cuore i loro lumi non provengono dal loro intelletto i loro discorsi non rispecchiano i loro pensieri la sola cosa che è possibile cogliere è il loro aspetto esteriore e quando li si vede in una riunione si ha l'impressione di trovarsi davanti a uno spettacolo di marionette il cui spettatore per quanto fermo è l'unico a muoversi da sé ma l'autocritica dei mondani poteva essere molto più spietata delle accuse dei moralisti perché non proponeva alternative possibili per madame di defant non vi era supplizio peggiore che essere lasciata in compagnia di se stessa e persino la compagnia degli automi le sembrava preferibile alla solitudine ammiravo ieri sera la numerosa compagnia riunita a casa mia uomini e donne mi sembravano automi che andavano venivano parlavano ridevano senza pensare senza riflettere senza sentire ciascuno recitava la propria parte per abitudine la duchessa da guillon scoppiava da ridere madame de forcalquier disdegnava ogni cosa madame de la valie ci calava su tutto gli uomini non recitavano parti migliori e io ero sprofondata nelle più nere riflessioni pensavo che avevo passato la vita nelle illusioni che mi ero scavata io stessa tutti i baratri in cui ero sprofondata che tutti i miei giudizi erano stati falsi e temerari e sempre troppo avventati e infine che non avevo veramente conosciuto a fondo nessuno e che nessuno aveva veramente conosciuto me e che forse non mi conoscevo io stessa anche la trasmissione di questa sera avrà come filo con tuttora quello della conversazione vedremo come quest'arte della parola fra uguali al cuore della società aristocratica francese ed antico regime contribuirà in modo sostanziale alla fine di questa società e all'avvento della rivoluzione francese nonostante le accuse di fatuità di leggerezza di strategia di dominio la conversazione mondana continuava nel settecento la sua marcia gloriosa ancora vent'anni prima della rivoluzione francese madame Necker padrona di casa dell'ultimo grande salotto intellettuale francese prima del 1789 ne ricorderà le regole essenziali il governo di una conversazione assomiglia molto a quello di uno stato bisogna che ci si accorga appena dell'autorità che la guida chi è in carica dell'amministrazione e la padrona di casa non devono mai immischiarsi delle cose che funzionano da sole ma evitare i guai e gli inconvenienti che insorgono via via sul cammino allontanare gli ostacoli rianimare le situazioni nei momenti di stanchezza una padrona di casa deve impedire che la conversazione diventi noiosa sgradevole o pericolosa ma non deve fare niente fin tanto che la spinta iniziale è sufficiente e non ha bisogno di venire rinnovata accelerare troppo è essere d'intralcio ma con l'avvento dei lumi la conversazione cambiava di segno per i filosof la parola non poteva essere solo al servizio del divertimento e degli svaghi di una società di privilegiati la parola si poneva al servizio della verità al servizio della ragione doveva interessarsi del bene pubblico e doveva collaborare alla coesione sociale e in questa prospettiva in questa nuova presa di coscienza della funzione dell'importanza della parola che Charles Pinot Duclos in un saggio sui costumi pubblicato nel 1751 distingueva l'uomo socievole dall'uomo amabile e mentre l'uomo amabile veniva fatto oggetto di una critica pressante l'uomo socievole diventava il modello di comportamento per tutta la società l'uomo socievole possiede le qualità proprie della vita di società l'educazione senza falsità la franchezza senza rozzezza la cortesia senza bassezza la compiacenza senza adulazione i riguardi senza costrizione e soprattutto l'inclinazione del cuore a fare il bene così l'uomo socievole è il cittadino per eccellenza l'uomo amabile invece o almeno colui a cui si dà questo appellativo è estremamente indifferente al bene pubblico arde dal desiderio di piacere a tutte le compagnie in cui si imbatte condottovi dal gusto e dal caso ed è pronto a sacrificare ad esse chiunque non ama nessuno e nessuno lo ama piace a tutti ed è disprezzato e ricercato dalle stesse persone per un contrasto abbastanza bizzarro sempre occupato degli altri è soddisfatto solo di sé e fa dipendere la sua felicità dalla loro opinione senza preoccuparsi della loro stima che evidentemente dà per scontata o di cui ignora la natura man mano che il settecento avanza la conversazione mondana diventa il veicolo principale della diffusione del pensiero dei lumi nell'alta società i mondani si mostrano straordinariamente curiosi avidi di novità si appassionano al dibattito intellettuale si interessano di scienza di economia di politica di religione e naturalmente di filosofia nel settembre del 1765 in visita a Parigi lo scrittore inglese Horace Walpole che non fa mistero delle sue convinzioni politiche conservatrici rimane fortemente scandalizzato dalla libertà dei discorsi che si tengono nei salotti perigini i francesi ostentano la filosofia la letteratura e il libero pensiero il libero pensiero riguarda solo noi stessi e certamente non è fatto per essere sbandierato in società ho appena pranzato con una dozzina di letterati e nonostante la presenza dei domestici che servivano la conversazione anche quella riguardante l'antico testamento è stata molto più libera di quanto avrei tollerata a casa mia in inghilterra fosse anche alla presenza di un solo servitore il riso è passato di moda come i burattini e le trottole povera gente non hanno il tempo di ridere prima di tutto bisogna pensare ad abbattere a buttare giù dai loro piedistalli Dio e il re uomini e donne dal primo all'ultimo si consacrano devotamente a questo lavoro di demolizione all'inizio del secolo Fontenet diceva di non amare la guerra perché rovinava la conversazione ma nella seconda metà del settecento per Diderot e per il partito dei filosof è la conversazione che si trasforma in uno strumento di guerra in una lettera di Diderot a Necker del 22 giugno 1775 vediamo come Diderot illustra con lucidità questa strategia l'opinione questo elemento dinamico di cui conoscete tutta la forza nel bene e nel male non è altro alla sua origine che l'effetto di un piccolo gruppo di uomini che parlano dopo aver pensato e che formano di continuo in diversi punti della società dei centri di istruzione da cui gli errori e le verità ragionate si propagano di bocca in bocca fino ai confini estremi della città dove si stabiliscono come articoli di fede i nostri scritti agiscono solo su una certa classe di cittadini i nostri discorsi su tutte è proprio Diderot considerato dai suoi contemporanei come il conversatore più eloquente più coinvolgente più trascinante della sua epoca analizzare in una lettera all'amica Sophie Volant la logica nascosta che sottintende il divagare della conversazione datata 20 luglio 1760 la lettera che ascoltiamo descrive le chiacchiere intorno al cammino che si tengono nella casa di campagna del barone d'Albach uno dei protagonisti del movimento dei lumi che cosa singolare è la conversazione soprattutto quando la compagnia è alquanto numerosa guardate i circuiti che abbiamo fatto i sogni di un malato in preda al delirio non sono più inusitati eppure visto che non vi è niente disconnesso né nella mente di un uomo che sogna né in quella di un pazzo anche nella conversazione tutto ha una sua logica ma talvolta sarebbe assai difficile ritrovare i legami impercettibili tra idee così disparate un uomo lancia una parola estrapolandola dal suo contesto quale l'aveva pensato un altro fa altrettanto e via dicendo una sola qualità fisica può portare la mente che la evoca ha un'infinità di cose diverse prendiamo un colore il giallo per esempio l'oro è giallo la seta è gialla la preoccupazione è gialla la bile è gialla la paglia è gialla a quanti altri fili può ricondurre questo filo la follia il sogno l'incongruità della conversazione consiste nel passare da un oggetto a un altro per il tramite di una qualità comune dobbiamo a un cronista di eccezione lui Sébastien Mercier la descrizione del divagare della conversazione parigina a ridosso della rivoluzione sempre più e un uomo 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 senza essa obbedisce soltanto più alla regola del piacere con quale leggerezza si sballottano a Parigi le opinioni umane ma soprattutto con quale facilità si va da un soggetto all'altro e quanti argomenti si passano in rassegna nel giro di poche ore bisogna riconoscere che a Parigi la conversazione si è perfezionata a un punto tale che non vi è esempio simile nel resto del mondo ogni battuta assomiglia a un colpo di remi insieme leggero e profondo non ci si ferma a lungo sullo stesso oggetto ma vi è una tonalità di fondo che fa sì che tutte le idee rientrino nella materia di cui si parla il pro e il contro vengono discussi con una rapidità sorprendente è un piacere delicato che può essere solo appannaggio di una società estremamente raffinata che ha stabilito delle regole sottili e a cui non si viene mai meno l'uomo che in aggiunta allo spirito non possiede questo tatto è ridotto al silenzio come se gli facesse difetto l'udito non si sa per quale transizione veloce si passa dall'esame di una commedia a discutere dell'insurrezione americana così come si parla contemporaneamente di una moda e di Boston di un fatto di cronaca e di Franklin la concatenazione è impercettibile ma non sfugge agli occhi di un osservatore attento per quanto distanti i rapporti non sono meno reali e se si ha l'abitudine di riflettere non ci si può non accorgere che ogni cosa è collegata che tutto si tocca e che bisogna avere una moltitudine di idee per partorirne una buona in morale come in fisica i raggi riflessi si illuminano di luce reciproca ma alla fine del settecento i salotti non erano più delle arcadie felici delle isole fortunate come al tempo dell'hotel del Rambouillet erano diventati dei centri d'opinione e dei luoghi di potere con cui l'autorità regia sempre più debole doveva fare i conti era necessario frequentarli per fare carriera ed è così che l'abbé de Perigord il futuro principe di Talleyrand incominciava la sua scalata politica sentiamo come ce la racconta nelle sue memorie andavo più o meno dappertutto e anche per uno spirito poco portato all'osservazione quello della gran società dei dieci anni di cui parlo era uno spettacolo davvero singolare le pretese avevano sovvertito tutte le regole dell'etichetta De Lille pranzava da Madame de Polignac con la regina l'abbé Balivière sedeva al tavolo di gioco con il conte d'Artois il gioco e il bel esprit avevano livellato tutto le carriere quel grande pilastro della gerarchia e dell'ordine erano sovvertite tutti i giovani si credevano idonei a governare si criticavano tutte le decisioni dei ministri tutto ciò che facevano personalmente il re e la regina veniva discusso e incorreva quasi sempre nella riprovazione dei salotti parigini le giovani donne parlavano con pertinenza di tutti gli aspetti dell'amministrazione sarà sempre Talleyrand a ricordare nelle sue memorie come in quegli anni intorno al 1780 quegli anni come dirà lui stesso in cui mai il piacere del vivere era stato così intenso sarà Talleyrand a ricordare dicevo come la febbre della politica si estendesse a tutta la società la conversazione era ormai diventata critica aperta al governo contestazione complotto senza per questo perdere la sua gaiezza la sua leggerezza la sua eleganza sentiamo Talleyrand mi ricordo che a un ballo tra due controdanze Madame de Stalle insegnava a Monsieur de Surgère cosa fosse il dazio Madame Bleau aveva un'opinione su tutti gli ufficiali della marina francese Madame de Simian trovava che non bisognava tassare i tabacchi della Virginia il cavaliere de Buffler diceva che la Francia avrebbe ripreso la sua preponderanza politica solo abbandonando l'alleanza dell'Austria per quella della Prussia al posto del re io farei questo diceva Monsieur de Poire al posto del conte d'Artois direi al re quest'altro diceva Saint Blancar presto le luci si sarebbero spente nella grande sala da ballo dove l'aristocrazia francese stava conducendo la più brillante delle sue stagioni prigioniera del suo immenso svisurato potere la conversazione tradiva la sua vocazione all'intimità alla felicità privata e lavorava alla propria rovina presto infatti il monopolio della parola sarebbe passato all'oratorio pubblica e non vi sarebbe stata altra conversazione che quella collettiva all'assemblea nazionale nell'epilogo sanguinoso e tragico che avrebbe portato alla sua stessa soppressione l'ordine dei privilegiati rivelava però la forza della sua civiltà privato di tutto salvava lo stile e con lo stile salvava l'onore Ippolito Tain lo ha ricostruito in una pagina famosa in prigione uomini e donne si abbiglieranno con cura si faranno visita terranno salotto magari in fondo a un corridoio tra quattro candele ma scherzeranno faranno madrigali diranno delle canzoni avranno ancora il puntiglio di essere non meno galanti gai e aggraziati di prima che bisogno c'è di diventare tetri e maleducati perché un azzardo li ha portati in un cattivo albergo davanti ai giudici sulla carretta conserveranno la loro dignità e il loro sorriso le donne soprattutto andranno al supprizio con l'eleganza e la serenità che avrebbero avuto in una serata di gala tocco supremo del saper vivere che eretto a dovere unico e diventato per questa aristocrazia una seconda natura si ritrova nelle sue virtù come nei suoi vizi nelle sue capacità come nelle sue impotenze nella prosperità come nella caduta e la dorna fino alla morte dove l'ha condotta alle 8 della sera l'arte della conversazione di Benedetta Craveri letture di Luca Zingaretti in redazione Nella Ottolenghi regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera ciocciolarai.it per riascoltarci www.radio2.it www.radio2.rai.it www.radio2.it 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 Grazie.